Ok ragazzi ci siamo, abbiamo qua l'onorevole Mark di All You Can Trap che adesso dobbiamo fare il marasma perché adesso qua c'è da fare questa fantastica tier list. Allora innanzitutto io partirei da un po' come il non ascoltato ci vuole, poi qua c'è una categoria che si chiama incommentabili e ci ha aggiunto slash imbarazzanti. E poi gli altri secondo me man mano, eh sì mi sa un po' di spoiler, già li abbiamo dati, man mano che magari ci vengono, capitiamo su degli album magari li modifichiamo in base ai sentimenti che ci fanno provare. Buonasera a tutti ragazzi intanto, buonasera a tutti, poi vi sparo due trombette dopo con calma. Allora il primo disco che abbiamo qua io non capisco quale sia perché non lo riconosco mica, poi capita quale sia. Bella Bruce, bella a tutti quelli che sono in chat, questo qua primo c'è un uomo nello specchio? Oh ti devo dire la verità, ce ne sono diversi così a occhio, non è che riconosco. Vabbè spariamo a non ascoltato via, il primo fuori dal cazzo. Allora, innanzitutto come categoria principale visto che c'è un bel signore là sotto metterei album dell'anno. Album dell'anno, ok, e lo sparerei per primo. Envykilla? Envykilla? Brutto tu hai ascoltato Envykilla? Ah no, però quello lì è Envykilla, ok, no, non l'ho ascoltato. E allora... Ma quanto ne sa il signor Nick? Quanto ne sa? Eh Nick ha studiato, Nick ha studiato di brutto. Nick sa tutto, zitto zitto ma sa tutto. Abbiamo qua ragazzi, come prima pic, come prima pic, abbiamo lui, umile di Tony Boy. Ragazzi, ti stavamo già disquisendo prima. Vai Marco, vai tu, ti lascio un attimo libera parola. Allora, veramente potrei star qui a parlare di questo disco, non so, un'ora. Quello che voglio dire è abbastanza semplice, ossia per me questo disco è la rappresentazione perfetta di quello che ad oggi, nel 2023, un artista deve fare per affermarsi nella scena hip-hop italiana, chiamiamola così. Ossia, essere se stesso nel bene o nel male, cioè mostrare anche le sue fragilità e farlo in una maniera totalmente trasparente, totalmente senza filtri, come ha fatto Tony Boy. Essere vocalmente valido, e Tony Boy lo è alla grande, sia quando va su note più morbide che quando rapa pesante. E poi, diciamo, fare tutta una serie di cose, di iniziative, che siano il marketing, che sia la grafica, che siano gli ospiti chiamati come featuring, che siano le produzioni, non già sentite. Cioè, io in Umile ho trovato veramente pochissime cose già sentite, pochi testi già sentiti, poche figure retoriche già utilizzate, quindi c'è anche un grande discorso di originalità. Poi, diciamo, a chiudere il cerchio c'è il fatto che i testi ti arrivano dritti, cioè le cose che lui dice sono raccontate in una maniera che non ho problemi a dire che solo Marra, secondo me, sa fare, cioè di raccontarti certe cose, certe tematiche anche super delicate, in maniera così dritta, in maniera così templice, ma anche efficace, che è una cosa che in scrittura è difficilissimo. Il tutto appunto è apparecchiato perfettamente con produzioni, secondo me, super di Waiyaki. Insomma, le cose principali sono queste. Poi, ciò che mi ha fatto innamorare del disco è proprio il riascolto. Cioè, è un disco che, a differenza di tanti altri che escono in questo periodo, tu hai proprio il piacere di riascoltare, perché ogni volta c'è una traccia che scopro, c'è un qualcosa in più che mi arriva, e quindi anche il riascolto in un disco ad oggi è una cosa rara quasi, no? Vero, 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 vero. Io posso dire, con questo disco... Sì, 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 Emit, con calma, con calma, con calma, fratello, con calma, se no ti prendo questa. L'ho sparato uno scorreggione. Tu ogni tanto senti... Se dico qualche effetto, parlo di qualche effetto, tu non lo sentirai, ma lo sentiranno i ragazzi in chat, le ragazze, si spera. Perfetto, perfetto. Devo dire, io sono partito... L'ho sentito le prime volte sto disco, in un periodo che avevo le cuffie messe malissimo, perché c'avevo tutti gli audio mixati, inizialmente avevo problemi di beat, però vabbè, inizialmente non mi era piaciuto. Esce la Deluxe, lo riascolto, ragazzi dico, bro, cioè, what the fuck? Dico, what the fuck, bro? Che cazzo di disco ha fatto? Perché altro, cioè, ogni traccia era good or bad. La roba che mi è piaciuta un sacco è che uno è rimasto... In questo progetto, cioè, si sente che c'è autentic... Io non sono un grande fan di Tony Boy e tutte queste robe qua, quindi... Cioè, è una roba proprio da esterno, cioè, da esterno, da non fan, ma da ascoltatore del rap, ho proprio detto... Cioè, sta roba è clamorosa, perché le canzoni hanno una struttura veramente top, perché sono proprio scritte, organizzate, gestite, capito? Strofa, ritornello, in un modo molto figo. Poi alterna bene i brani, che saranno i miei preferiti, quelli dove va con linee melodiche come i primi due, sogni di Lin, poi alternati a Bangor, a pezzi più chill e conscious. Veramente è un progetto proprio... Cioè, vedete, quando in America escono... Lo so, secondo molto l'America io... Escono quei progetti che tu dici dall'inizio alla fine è proprio una roba... Un lavoro, un progetto strutturato proprio bene. Bene, 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 bene. E quando ho finito di sentirlo... Poi anche io di solito, molto spesso, faccio reaction in live e non ascolto i dischi, poi, per i fatti miei, perché mi ascolto le mie robe. Questo è stato uno di quelli che... Poi mi riascoltavo anche per i fatti miei, mi gasava. Quindi, veramente big up, io ho detto, se finisce nelle top... Se finisce come album dell'anno, pure top 3 della gente, ho detto, non mi stupisco per niente. Quindi per me può andare benissimo in album dell'anno. Poi ci aggiungo cosa che non avevo detto, non ce n'è una skippabile. Cioè, non posso trovarti una traccia skippabile. Allora, io uno skip ce l'ho, che è quella con Kidi Yugi, ma solo perché Kidi Yugi ha quell'effetto strano alla voce che è, secondo me, un pochettino la rovina. Non so se mi capisci. Ti posso dire che... Cioè, è quella che mi è piaciuto di meno, esatto. Non fa schifo. Perché c'è Kidi Yugi che ha quella modifica alla voce che non mi fa impazzire. Sì, sì, ti ho capito, ti ho capito. Però, sì, sì. Cioè, comunque l'ascolto, però effettivamente anche a me è quella che piace di meno. Adesso, adesso. Allora, il prossimo disco cos'è, ragazzi? Qua mi ci dovete tenere in alto perché hanno agito un sacco di dischi inutili. Io l'ho già fatto, ma non mi ricordo. Io tipo faccio scegli file. No, vedi, mi dice... Mi fa aggiungere immagini. Se dovrei scaricarmi le immagini dei dischi... Per lo sgronio. E la deluxe, devo dire, i brani non ci sono tornato molto perché li ho trovati molto più disorganizzati nella deluxe di... Di come si chiama? Di umile. Allora, quello là è Uli. Sì, cioè, ci sta... L'ho trovata una roba proprio per i fan. Proprio per i fan, totale. Il prossimo disco è Molli. Io non so chi sia. Lo metterei in non ascoltato. No, è Uli. È quello che ha fatto a Sanremo. Ah. Però, a parte la canzone di Sanremo, non l'ho ascoltato, quindi... Allora, non l'ho ascoltato. Vaffanmocco, va. Poi cosa c'è qua? Vedo altra salsa al sugo, ragazzi. Io non conosco sta roba. C'è un botto di roba che non... Vai, schippiamo. Questo signorino qua, chi è? Tu non lo conosci, zero. Questo qua, indipendentemente, preso bene. Non so chi sia. Questo penso sia MakeRapGreatAgain, che io non ho sentito. Zero. Zero. Questo è lo stesso. Chi è? Sed? Ah, secondo me lui è Jackout, dovrebbe essere. Ah, sì. Non l'ho ascoltato. No, l'ho ascoltato. Ok, questo dovrebbe essere Madame, l'amore. Quello nostro Madame, sì. Tu l'hai ascoltato, bro? Io ho dato proprio un ascolto di tipo le prime quattro tracce e poi l'ho staccato. Quindi non so se metterlo in non ascoltato, proprio non mi piace. Perché comunque Madame mi piaceva un po' agli inizi. Poi ora in realtà non l'ascolto quasi niente. Non mi piace neanche quando fai i featuring. Quindi, diciamo non l'ascoltato, ecco, perché non l'ho ascoltato tutto. Se l'avessi ascoltato tutto, probabilmente l'avrei messo in Incommentabili, Imbarazzanti, o comunque... No, Imbarazzanti no, dai, bro. Va bene, questo è uno dei dischi che inizialmente era, per me, per un periodo è stato dei dischi... Non me lo sono ascoltato a profusione, per un periodo me lo sono un po' sentito. E, dicevo, questo è uno dei dischi migliori italiani, ma proprio in generale, usciti quest'anno, ma anche negli ultimi anni, secondo me, perché... La zia è andata veramente in una... Ci sono, c'erano dei brani, c'era un brano che è il mio preferito, il mio vecchio maestro. Allora, partiamo dicendo che è un po' criptico, perché tipo mi sono dovuto mettere pure col mio coinquilino ad analizzare i testi, perché io facevo proprio fatica a capirlo. C'è stato proprio un disco che a tratti facevo fatica a capirlo. Cioè, a volte capivo cosa diceva, a cosa si riferiva, altre volte proprio zero. Però secondo me è una roba molto figa, perché è come se avesse fatto un disco stile alla De André, come tematiche no, perché sono tematiche sue più sessuali di genere, tutte queste cose... Walk, diciamo, gen Z, arcobaleniche, eccetera, eccetera, eccetera. Però secondo me è un album proprio veramente figo, perché tira dentro tanti generi, c'è una roba che mi ricordava De André, c'è una roba che mi ricordava 808 and Heartbreak di Kanye West. Cioè, veramente ha mischiato un sacco di generi, ed è stato proprio un viaggio. Poi non mi viene neanche da dire molto, perché sento ancora di non averlo capito benissimo. Proprio quello che ho sentito, come è un album fighissimo, io lo metterei in S. Però il tuo incommentabile al massimo lo tende ad abbassare un pochettino. No, 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 allora, la mia opinione, secondo me, in questo caso non deve influire, perché effettivamente, c'hai capito, è una cosa che non mi ha voluto. Eh sì, non è l'interesse, quindi non... Perché altrimenti non lo definirei neanche rap, io non lo definirei neanche rap, perché c'è poco rap puro puro qua. Cioè, è più un Madame, cioè un disco di Madame strano, strano, proprio non classificabile. Per me è stato veramente figo, però è da sentire ancora di più. Però io ce lo sparerei in S. Mi sono calaterliste mia, faccio come cazzo, mi... No, scherzo, no, scherzo. Questo qua, occhio, io non so chi sia, bro. Doveva essere Drust. Ah, Drust, io non l'ho sentito a zero proprio. Neanche io. E allora vola, qua vedo il mostro, cos'è? Il mostro è questo, se non sbaglio. Cos'è, The Illest 3 è uscito. Tu non l'hai sentito? Non l'ho ascoltato. Dal cazzo. Quest'altro? Questo è il signor Astrocentauri. Ah, Astrocentauri, io non l'ho sentito niente. Non so se tu l'hai già commentato. Ti devo dire che c'è stato un periodo in cui me l'ascoltavo, qualche traccia me l'ascoltavo. Eh, vabbè, ovviamente non sono oggettivo perché ormai, cioè non dico che siamo amici, ma quasi comunque ci siamo beccati mille volte. Quindi effettivamente non sono riuscito ad essere oggettivo. Però a me non è dispiaciuto, te lo metterei in un... Tranquillamente in un B, guarda. In un B, onestà. Intanto stavo pensando ad altri cosi, tipo... Mettiamolo in un B. Mettiamolo in un B e un B di All You Can't Trap. Poi io, sincero, non l'ho sentito. Mamma mia, ragazzi, cosa abbiamo qua adesso? Brava gente, Pinerone, Edensi. Tu l'hai sentito, brother? No. Non sentirlo, non ascoltarlo, non farti questa cosa. Addirittura. Io questo vola diretto inincommentabile barra imbarazzante perché salvo uno o due brani. Addirittura. Io salvo uno o due brani. Io sono partito totalmente positivo e aperto su sto disco. È stata proprio la... Per me... Ma come B è Madame imbarazzante? No, no, Madame in S, Fraptus. Astro Centauri in B. E i zii Enzi e Nerone, bro. Cioè, è presente quando senti proprio la puzza di vecchio? Bro, la puzza... È presente quella sensazione là? Cioè, hanno fatto un disco che voleva essere capito. Io, siamo noi il rap, siamo noi l'ipop con le barre. Cioè, neanche più i freestyler quando fanno il freestyle. Neanche le competizioni fighe. Quando si allenano in serata, cioè, proprio rime da freestyle livello di... Ma neanche degli ultimi anni, di 5-10 anni fa. Punchline veramente imbarazzanti vecchie. Da boomer totale. Le produzioni, alla fine comunque ci stavano. La cosa positiva che le avevo detto è che comunque si sente bene. Non so, le produzioni picchiano. Sono carine. La voce, il mix, tutte queste robe qua. È valido e via. Però veramente, insieme ai ritornelli imbarazzanti. Cioè, prendete proprio quei ritornelli che non sanno cantare. Oppure che hanno il refrain. Che dicono se passano... Mi hai messo la curiosità. Penso che me lo ascolterò. Ascolterò? No, cioè sì, sì. Ho visto uno delle tracce. Voglio capire. Però effettivamente poi è andato molto male. Penso anche come i numeri. Cioè, comunque, un minimo i numeri, diciamo, non li guardo a livello di gusti personali. Però facendo questi ragionamenti qua, un minimo ci si può agganciare ai numeri. E penso che la tua opinione sia anche avvallata da numeri non straordinari. Sì, per me, giuro, la cosa peggiore di storia sono state le performance di Ainsie e Nerone. Perché veramente imbarazzanti io li ho trovati. Cioè, infatti non l'ho neanche finito in live il disco. A un certo punto mi stavo intendo insultarlo. L'ho chiuso e mi sono messo ad ascoltare altro. L'unica traccia buona è quella con Silent Bob, secondo me. Poi per il resto, via. Non so voi in chat se l'avete ascoltato. Cosa ne pensate? Però io lo metto di là. Allora, il prossimo è quello di Erkomirama. Io non l'ho sentito, parto già. Allora, io penso che questa sia un'ottima rappresentazione di un flop. Cioè, per me un flop è quando gli artisti, o comunque le etichette discografiche, o chiunque ruota intorno all'artista, ha un'idea, ha un progetto di cosa voler fare nel mercato, diciamo così. E la loro idea era uniamo Erkomirama e Erkomirama, che diciamo più o meno sono sulla stessa wave, e spariamo un disco di tutte hit pop che possono fare radio, che possono fare TikTok, eccetera. Questa cosa è completamente fallita, perché poi il disco non sarebbe... se lo sono cagato, diciamo, in pochi rispetto agli ascoltatori che possono avere normalmente Erkomirama. Dovevano uscire grandi hit estive, non ne sono uscite, grandi hit da TikTok non ne sono uscite, grandi hit radiofoniche non ne sono uscite. Quindi è proprio il flop perfetto. Cioè, è proprio giusto che sia il primo quadratino che mettiamo in flop. Flop, mettiamolo qua, flop totale, via, fuori dal cazzo. Io non l'ho sentito, però... In realtà, inizialmente avevo letto dei commenti positivi, poi dicevo non era la mia... Perché comunque i brani non erano male. Così dicevano, io non li ho sentiti. Però, se mi dici così... Cioè, in effetti sì, poi non l'ho visto neanche tra... Cosa ne so, nelle stories, oppure... Neanche nelle classifiche di Spotify di fine anno, tutte quelle robe là, c'è proprio zero, non ho visto niente. E quindi, quindi sì. Il prossimo è Vegas Jones. Io lo stesso, questo non l'ho sentito, non l'ho fatto in tempo, però questo ho visto, lo stesso. È stato un disco abbastanza iterato. Io lo metterò in flop, ma so per la percezione che c'è stata. Non so se tu mi po' la tua. Allora, io devo dire la verità. Appena l'avevo ascoltato... C'erano state tre quattro tracce che mi erano piaciute. Io comunque, almeno, ero super fan di Vegas. Quindi, diciamo che tre quattro tracce ha tirato fuori le cose sue che mi sono piaciute. Quindi non lo metterei proprio in flop, però non va oltre la C per me. Perché poi nel riascolto, effettivamente, non è niente di che, ecco. Non è un brutto disco, non è un flop, ma neanche niente di che, ecco. Lo metto... Metto proprio niente di che, niente di che. C'è una saccategoria. Se ci spariamo il coso. Ok, il prossimo... Ah, esatto. Io mi ricordo, l'ho sentito quella con, tipo, il remix di Dragon Ball, che... Cioè, sì, ci stava. Però, bro, cioè... Ancora fare la drill. Vabbè, quella era una hit. Per me... Sì, no, è una hit. Per me ci stava. Però, sì... Cioè, ripeto, l'ho ascoltata quando il periodo che è uscita e basta. Cioè, nel senso, non è che era... Che ha fatto parte del mio 2023. Certo, certo. Allora, il prossimo è... Cristi e Diavoli della Love Gang. Tu poi se l'hai ascoltato, brother. Qualche traccia. Qualche traccia. Quindi... Qualcosa. Non lo sapresti classificare o... No. Ah, sto. È lo stesso anche io. Io l'ho ascoltato solo una volta in live. Era... Era molto... Cioè, suonava veramente bene. È stato un ascolto piacevole. Per solo che poi non me lo sono più ascoltato. Però anche questo, ho detto, è uno di quei dischi che se finisce nelle top 3, oppure il miglior album dell'anno, eccetera, capisco benissimo. Perché è un prodotto validissimo. Molto figo. Sì, sì, infatti, io mi ricordo, mi era piaciuto in live. Infatti gli avevo fatto gli applausi. Veramente, forse solo uno o due brani che era... Ah, quello forse... No. Non lo sto confondendo con Danny Five. Quello mi ricordo, giusto uno o due brani... Mi avevano... Non mi erano piaciuti. Però tutto il resto era molto... Molto piacevole. Molto figo. Una bella vibe. Super performance da tutti. Ketamas, Trainforma. Produzioni fighissime. Veramente. Io lo metterei o in valido o in molto figo. Lo metterei in valido, ma giusto perché non l'ho ascoltato più di tanto. Però lo metterei anche in molto figo. Cioè, o valido o molto figo o per uguale, ragazzi. Nel caso, se voi insistete di mi permetterlo è molto figo, lo sposto volentieri. Tanto ci sta. Aspetta. Valido. Come ho detto, ci sta. Ok, il prossimo è For the Highland. Nuova Sardegna. Tanto cover fighissima. Riguardando la ora anche qua in mezzo a tutte le altre. Nick dice molto figo. Ci sta. Allora, dobbiamo capire se la categoria album dell'anno dobbiamo... Cioè, ci può essere un solo album? Sì, sì. No, no, no. Ce ne possono essere anche di più. Più che altro, secondo me, ci sta come categoria, come per dire, possibili album dell'anno. Gli album dell'anno, ok. E vabbè, io ce lo metto lì. È un progetto figo, che ha di bello il fatto che le tracce scorrono molto fluide e forse sarà un po' esagerato come paragone. Però io ho provato delle sensazioni che l'ultima volta avevo provato nel Marchete Mixtape Vol. 4. Cioè, tanti estati fa. Poi, ovviamente, con tutti i paragoni del caso, eh. Però sono, mi sa, di una raccolta di esercizi di stile, di hit, di cose figa. Proprio il punticino a sfavore, magari le tracce un po' più morbide, quelle un po' più contus, non mi hanno fatto impazzire. Però, diciamo, per quello che rappresenta Nova Sardegna, per quello che rappresenta questo disco, per tutto il percorso che c'è dietro, per i ragazzi, eccetera, mi sento assolutamente di metterlo in album dell'anno. Onesto, onesto. Allora, io non so se metterlo in album dell'anno, perché secondo me l'ho stato un progetto molto figo, che ho ascoltato un botto nel periodo estivo, quando è uscito, eccetera, eccetera. Poi, finito un po' quel periodo, l'ho un po' mollato. Però, indubbiamente, secondo me, è un signor album tra i più fighi usciti quest'anno in Italia, a mani basse. Hanno tutti ultra, mega, iper trasformato, tutti i rapper, tutti i produttori, cioè tutto è stato molto figo. È stato veramente molto figo. È tra i progetti più fighi e carini di quest'anno, scusate. L'unica criticità che magari li posso dare, che io ho trovato personalmente, è stata la tracklist. Perché nell'ascolto dell'album intero, a volte non mi fa impazzire il fatto che si cambia spesso magari da un mood all'altro. Avrei preferito magari prima metà sbanger, seconda metà cilo, viceversa. Un po' mi ha spezzato un po' l'ascolto. E poi, da esterno, vedendo le percezioni degli altri, ha fatto difficoltà un pochettino a uscire fuori dalla bolla, sto disco, secondo me. Perché ci devi fottere con sta vibe. Non è un disco approcciabile a tutti. O capisci quella vibe e quell'energia, o non riesce a entrarci e a fartici prendere. Perché ho visto che alcuni dicevano, cioè ci stavano, ma non mi piacciono. Dicevano appunto, cioè ci sta, ma non mi prendono, non mi dicono niente, eccetera, eccetera. Quindi un po' limitante, anche magari per le tematiche. Appunto ha avuto sta difficoltà, secondo me, ad essere percepito dal grande pubblico. Hai beccato proprio il punto giusto, secondo me, della questione. Nel senso, se sei dentro la vibe, cioè tu sei super fan loro, ti gasi, segui tutte le robe, ti guardi live, ti segui tutti quanti, ti gasi, eccetera. Il che è proprio il loro punto forte. Però dall'altro, l'ascoltatore X, che magari sente la title track, piuttosto che, cosa ne so, 115, where are you at, eccetera, si infoga, magari si prende bene, però è difficile che ti affezioni, ecco. Quindi la roba, o ci sei tu per dentro, magari ci galleggi un po' tra l'indifferenza. Sì, esatto. Anche perché, esatto, cioè, da esterno devo dire, tipo, alcuni brani melodici mi sono un po' provato a trasportare da esterno. Cioè, o fotti con quella vibe, oppure se non ci fotti, da esterno, secondo me, tendono a suonare un po' generiche alcuni brani. Non i banger, tipo 115, perché quelli sono clamorosi, oppure For the Island, oppure altri brani. Però ce ne sono un paio melodici, soprattutto quelli maieri dove c'è Sgribas che ti spara l'autotune, e c'è quel beat, diciamo, pain, alla stanna a gambino, e quelle robe là. Non lo fanno in maniera unica, e ultra fica. Quindi, cioè, se fotti con quel movimento, con quella vibe, ci sta di brutto, ci ti gasa. Altenzione, se esterno, quelle robe là funzionano un pochettino di meno, perché non hanno quell'elemento, dice, ok, magari lo fa già qualcun altro un pochettino su stile, o questa roba lo fa meglio. Secondo me è questo. Sono d'accordo. Non è crescita. Sui banger, sui banger, per me, non dico che non hanno rivali, ma, potenzialmente, possono competere con tutti. Sì, sulla vibe, meno. Quindi, io ti dico, l'album dell'anno, comunque, per tutto quello che rappresenta Nova Sardegna, dovendo essere, diciamo, puramente oggettivo, ti metterei molto figo. Però, personalmente, ti metto l'album dell'anno. Sì, sì, ma lo metto anche io, l'album dell'anno, alla fine, è stato un bel periodo, l'ho spinnato, spinnato un bel po'. Ma come anche Tony Boy, lo metto di là, anche se magari poi non, cioè magari sono più affezionato a Nova Sardegna, però alla fine, finito, mi sono ascoltato più Tony Boy, perché comunque i brani funzionavano di più alcuni. Poi questo qua, Pinocchio, non so cosa... Quello è, aspetta, non mi viene in mente. Ma già che è sta cover. È un tipo che fa rage, un tipo che fa rage. No, fa rage, Rock Lee forse, no? L'ho anche sentito, no, non mi viene in mente. Vabbè. Faceva parte, faceva parte del Wing Clan. Ah, ok. Si chiama Toxic, ma non mi viene in mente. Ah, Tommy Toxic. Tommy Toxic, sì. Sì, sì, sì. ok. Quindi l'ho ascoltato, cioè alla fine penso sia oggettivamente un flop, perché comunque come numeri eccetera, è andato male male, c'è proprio di numeri è andato malissimo. Ok. A me che la vibe prende bene, quindi sì, lo metterei in flop. Ok, vai, ce lo spari non ascoltato così. Ah, Joe Scacchi, giuro. Ah, è Joe Scacchi, ok, ok, ok. Eh, ma Joe Scacchi lo stesso aveva fatto un altro album precedente, tipo con un numero 24, 20, d'accordo. L'ho ascoltato anche in live, sì, era, bu, niente di che, anche perché poi loro fecero Tommy Toxic e Joe Scacchi a inizio 2022, fecero un album bellissimo, abbastanza figo. Bellissimo. Ok. Prossima, LA, Globo. Io anche qua, io questo ce lo sparerei diretto in molto figo. Non è un album dell'anno perché magari non lo, ho ascoltato tanto, però veramente le ha, fortissima, flow fantastici, produzioni clamorose, fighissimo, cioè proprio un cazzo di, tra i migliori progetti di quest'anno a mani basse, a mani basse. Album dell'anno no, perché comunque alla fine è un EP, però, però secondo me è veramente fortissimo, una delle cose più fighe uscite quest'anno. Superluccio ti chiede, imbarazzante calbume, Enzia Nerone. Enzia Nerone è brava gente. Enzia Nerone è brava gente. Ragazzi, quello di questa LA ne sento parlare bene da tutti. Ma a me, diciamo che, cioè ci vedo il potenziale, ho visto che è forte, però ancora mi deve, mi deve ancora prendere, diciamo così, però ho visto che può prendermi, so che può prendermi prima o poi, ma al momento non mi arriva ancora, ecco. Eh, anche perché magari i sound quelli non sono proprio i tuoi, quindi, perché o è boom bap, oppure c'è una roba leggermente più elettronica, tipo drama in bass, che non sia oltre la tua roba, infatti magari se la fa determinati artisti. Io ce lo spari molto figo, e aspettiamo il progetto, che conquisterà, You Can Trap da parte sua. Ragazzi, poi qua, Enzia Nerone è puzzolente, esatto. Imbarazzante, sbarra puzzolente potremmo mettere. Proprio fetente, di merda. No, è troppo, però, però imbarazzante è giusto, secondo me. Quest'altro ragazzi, chi è? Chi è Ste Custu? Questo ragazzo qua, mi dovete dare una mano in chat, però penso, ne io ne te l'abbiamo ascoltato. No, non mi dice niente. Eh, esatto, esatto, bravo, Nick ha detto una roba figa, cioè se vuoi fare una roba più hip hop, boom bap, che però sia figa, e che suoni bene, cioè cazzo, il disco della Love Gang è un perfetto esempio, perché, i brani sono di qualità, le performance sono fighe, le produzioni sono fighe, e via, quindi se ti vuoi ascoltare è una roba più rap, hip hop, boom bap, classica, però con un twist più moderno, cioè il disco della Love Gang è un esempio perfetto. Poi magari non ci ho, non me lo sono andato a riascoltare più di tanto, però, è oggettivo che sia così. Allora, poi quest'altro con il, con la, la camisa, tu lo conosci bro? No, guarda, non mi dicono niente, fino a quello di Dylan, già te lo dico. Ok, allora, io li scriverei. Allora, questo mi è familiare, questa cover con le macchine, ma cos'è? Eh, Dot Valentino, vero mi sembra? Però non lo so se io non l'ho sentito questo di Dot. Anch'io. Quest'anno l'ho un po' perso Dot. Anch'io, dottore, quest'anno l'ho un po' perso, sì, deve uscire, Sipario. Mi sei già uscita, io ho visto che deve uscire un progetto, si chiama Sipario. Lui pubblica moltissimo, c'è il diretto, hai capito, pubblica molto. Sì, però c'è stato, mi è un po' stuccato, diciamo così. Ci sta, ci sta. Sì, più che altro, io ho sentito dei brani recenti, alcune cose erano fighe, però erano proprio tipo, o prodotti male, o tipo, si sentivano proprio male. Poi magari le barre, le performance erano fighe, però, poi la produzione non spaccava più di tanto, e bla 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 bla. Dylan, Dylan, io non so il tuo su questo disco, io non l'ho solo la tua, mi sa. Forse facesti una review, ma non me la ricordo. Penso, penso che abbiamo un'opinione comune. Vai, la mia non è troppo negativa, è a metà. La mia è, diciamo, stesso discorso di prima, cioè, secondo me, è un'ottima rappresentazione del flop. Sì, bravo, bravo. Due, tre, tre, mi sono anche piaciute, cioè, me le sono anche ascoltate, quella di Rigor Mortis, così, me le ascoltavo, però, secondo me, è un'ottima rappresentazione del flop, perché avevano in mente un'idea, cioè, lui, passando da Pyrex a Dylan, voleva fare una cosa, e non ci sono riusciti, e non per niente, ora è tornato Pyrex, perché si è reso conto che voleva fare quella cosa, cioè, quasi voleva fare una roba all'arcomi, capito, voleva prendere un po' con la strada, non ci è riuscito, e quindi, esatto, scusate che stavo modificando una roba, esatto, voleva fare una roba un po' all'arcomi, esattamente, qual è il problema, però? Che è, allora, secondo me c'era il potenziale, cioè, infatti a me dispiace anche un po', perché tu mi pare hai visto, no, quella che hanno fatto il coso a, con Enzi e Nerone, con Enzi e Nerone, con Enzi, un miglior intervista del rap italiano di sempre, l'ho già detto, mica addirittura, no, proprio, sì, sì, ma hai visto un'intervista così figa? Eh, era molto figa, molto divertente, però, bro, cioè, quando gli hanno fatto la domanda di Dylan, vabbè che era stichilo, era stichilo, però, sembrava anche quasi si volesse giustificare, e uno ha detto, eh, ma ce li volevo mettere i pezzi banger, ma, alla fine non sono riuscito, quando Paese non era così, cioè, si vede che, anche lui voleva provare una roba diversa, però non era sicuro al 100%, sicuramente poi ci sono state pressioni, eccetera, eccetera, e quindi è venuta una roba che, ti dico, in generale, secondo me aveva potenziale, perché il potenziale c'era, alla fine il mio più grande problema con questo disco, spesso era, vabbè, o le produzioni, e le performance di Paris, i propri brani che non funzionavano, oppure, 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 oppure proprio la scrittura, perché spesso, cioè, vorreva essere più lover, però spesso cadeva in banalità, e cose, proprio da, neanche, neanche sciva in Dark Love EP, cioè era così, proprio, infantile liceale, a livello di scrittura dell'amore, che, poi, poi cazzo, da Dylan, capito, però, e l'ho detto, non lo so, cioè, sì, cringe, però allo stesso tempo ho detto, ho pensato, poteva andare molto peggio, poteva suonare molto peggio, delle cose carine, con potenziale, c'erano, a me dispiace, giusto, non ci sia voluto andare full, magari mischiare un po' le cose, perché secondo me il potenziale c'era, e via, però sì, flop totale. Ora ti dico, se un emergente, avesse fatto un disco del genere, ok, e avrei detto, carino, cioè ci sta, mi sarebbe preso bene, però, comunque non possiamo, non considerare, esatto, non possiamo non considerare che è Pyrex, capito, che ci ha abituato a certi tipi di cose, e quindi, ascoltandolo, e sentendo che è Pyrex, ti fa strano, poi sì, punto dei testi, super azzeccato, cioè, fare il comi, di fare blanco, non è sempre così, così, esatto, perché nel banale, è proprio un attimo, esatto, la roba è proprio quella, che sembrava proprio un, sembrava un voler ripigliare quella roba là, un cazzo, un cazzo, un cazzo, poi, qua abbiamo, La Bella Vita di Arti5, io devo dire, questo è stato un progetto molto interessante, devo dire, l'ho ascoltato un po' di volte quest'anno in realtà, sì, lo metterei invalido, perché comunque ci sono dei banger assurdi, come frate, Anelli e Collane, che per me è uno dei brani più fighi usciti quest'anno, cioè, bro, barre, produzione, perfetto, bro, uno dei brani proprio più fighi, in generale, ma anche degli ultimi anni di, di rap, cioè, non so come dire, street rap, in Italia, bomba, c'erano un po' di brani che mi convincevano di meno, magari, perché magari provo a sperimentare, o con la voce, col cantato, e là non è fortissimo, anche nel disco con, con Rondo l'ha dimostrato, anche se là si vedono i miglioramenti, e niente, però io lo sparerei invalido, perché comunque ci stava, è stato un bel ascolto, non mi ha fatto impazzire, affezionare, però ho detto, cioè, ci sta, cioè, di quel periodo là, che tutti quanti avevano droppato l'EP, questo era stato il mio preferito, mi pare. Sì, sì, assolutamente d'accordo, io lo metterei un po', per me galleggerebbe tra molto figo e valido, mi è piaciuto, Rt5 molto più qui, che nel disco di Rondo, ti devo dire la verità. Ah, ok. Poi ne parleremo magari, quando arriverà quello. Eh, sì, che mi sa dovremmo aggiungerlo a mano, perché qua non lo vedo, non lo vedo, toccherà aggiungerlo a mano dopo. Eh, perché mi sa che, mi sa che si ferma, eh, perché non c'è neanche quello di Sfera. Eh, no, infatti, non c'è Sfera, no. Sì, vabbè, li recuperiamo. Poi li recuperiamo con calma dopo, tanto i nostri fedeli in chat ci, 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 ci daranno i nostri tempi. Eh, ragazzi, adesso questo qua è pelato, chi è? Non lo so, secondo me può volare. Sì, sì, non l'ho ascoltato. Gara 7 di Johnny Marsiglia, secondo me questa è proprio, questa è la roba repellente, no, repellente no, però non è proprio la sua shit, è tipo Cristi e Diavoli. Ah, Mr. Rain, no, non penso, perché non mi sembrava facere Mr. Rain quella. Me lo ricordavo diverso Mr. Rain. Esatto, un po' Sanremo non li ha fatto bene, i soldi di Sanremo non li hanno fatto bene. Guarda, su Johnny Marsiglia hai ragione, come sound non è la mia roba, però me lo sono ascoltato, perché comunque da giocatore di basket, fan di basket, mi è piaciuto molto come ha parlato ok di basket, perché tendenzialmente nel rap italiano soprattutto lo si fa in maniera, come posso dirti, cringe per un giocatore. Sì, 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 con figure retoriche, no, un po' lei mi schiava in love this game, che è uno che non capisce niente di basket, diciamo, invece lui ha fatto delle metafore super accurate, super fighe, quindi ho apprezzato molto 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 quello lato lì, però non me lo sono, diciamo, poi riascoltato per questioni di sound, ecco. Ci sta, ci sta, allora devo dire anch'io, non l'ho riascoltato tanto, perché alcune cose a livello di sound non mi convincevano, soprattutto ho avuto dei, all'inizio ero un pochettino deluso, perché dicevo, cazzo, c'è il potenziale, però alcune cose non mi suonavano bene, poi però dannogli un po' di spin, anche se non l'ho ascoltato tanto, sono arrivato alla conclusione che è un album abbastanza figo, comunque in generale, ho le mie criticità, perché io ero mega fan di Johnny, poi col tempo un po' l'ho perso, ho cambiato gusti, eccetera, eccetera, e come dire, all'inizio ero un po' delusino, però poi alla fine di riascoltando ho detto, c'è un album, la verità, figo, cioè se la verità, se il flow, se un album mi deludesse così, di media, cioè, sarebbe, la stato del rap in Italia sarebbe veramente su un altro livello, perché comunque anche se sei deluso, non puoi negare che sia un prodotto di, di qualità, poi ripeto, riascoltandolo, mi ha preso sempre di più, dovrei ascoltarlo e vorrei ascoltarlo di più, perché a livello di sound non mi prende troppo, però io, io, lo metterei molto figo, secondo me, per potenziale, qualcuno potrebbe essere anche album dell'anno, per, per qualcuno, quindi io ce lo sparo in, in molto figo, esatto, poi ero curioso di sentire un po' la tua, a livello del basket, perché poi io di là non capivo un cazzo, a livello di testi mi sono concentrato più su altro, però, diciamo, un po' tutti hanno detto, sì, è figo, figo, cioè, parla bene del basket. che direbbe qualcuno che ne sa, quindi questo è, eh sì, onesto, onesto, il prossimo è Sacro Santo, di DJ Sciocca, non so se l'hai ascoltato, forse, forse una braccia, però no, anche questo io ce lo sparerei in flop, perché, mi ha veramente deluso questo, perché poi arrivavo dal, il progetto che fece con DJ Sciocca l'anno scorso, cioè, scusami, con Inoki l'anno scorso, quello là era veramente figo, secondo me, e questo invece, boh, i beat non suonavano, le performance, alcune erano abbastanza standard, proprio brani fighi, 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 erano pochi, secondo me, adesso poi non ha avuto neanche più di tanto risonanza, secondo me lo stesso proprio, Sacro Santo flop, non so voi, poi ogni tanto in chat ragazzi, se volete dite anche la vostra, questi progetti, se li avete sentiti, oppure, quelli che mancano qua, secondo voi, vai che ancora ce ne sono un po', va bene, il prossimo è questo qua, cella 5, no, cella 4, cosa dovrebbe essere innocente forse, o scompare dopo innocente, forse è un EP, leggo un cella 4, tipo, un cella 6, non ho ascoltato, effetto notte, attenzione, attenzione, risolveremo vecchie discussioni con il signore Mischilla, Mischilla, voglio, un attimo, mostrare, esatto, a sacra di un via, uno degli album più belli della storia del rap italiano, ma anche qui, ti dico, c'è rappresentazione del flop, secondo me, si voleva fare qualcosa, che non ho neanche capito bene cosa fosse, qualcosa legato ai film, non ho neanche ben capito che tipo di periodo è, per la carriera di Mischilla, non ho capito che Mischilla in questo momento, cosa sta vivendo, con questo album, ma, mi sono perso un po' nell'ascolto, featuring che mi sono sembrati alcuni un po' fatti a tavolino, così, tutta una serie di cose che in maniera molto decisa mi ha fatto dire flop, ripeto, da super fan di Emis, quindi, doppia delusione, in questo senso. Io, diciamo, un po' di film che citava, perlomeno è periodo tracklist, li conosco, cioè sono film che mi piacciono, dove cazzo è? cioè capito, come se Gianni Marsiglia è riuscito a fare ottime citazioni di basket, cioè Mischilla ha fatto l'esatto contrario con la roba che descrivevi tu prima che fanno di solito col basket in Italia, c'è proprio un citazionismo spicciolo, capito, cosa ne so, taglio come Freddy Krueger, capito, questo tipo di barre qua, questo livello di scrittura qua, sì, secondo me, cioè non era lo stesso, questo mi ha fatto effetto d'Eyland, perché vedendo le reazioni ho detto, mica, deve essere una merda, poi ascoltando ho detto, ok, poteva andare peggio, però, allo stesso tempo ho detto, sì, bro, frate, ok, cioè i brani non funzionano, i ritornelli, bro, i ritornelli, la roba più grave per me qua erano i ritornelli, perché è proprio, è una roba che secondo me è grave attualmente in Italia, è che i rapper non sanno più fare i ritornelli, eppure i ritornelli non sono pop, perché anche nella storia del rap, le più grandi hit avevano dei ritornelli, anche se vuoi tornare a Notorious B.I.G., se proprio vuoi tornare agli anni 90, oppure anche i run DMC, o se vuoi tornare indietro, il ritornello è sempre stato fondamentale per fare una hit, poi non ogni canzone deve avere un ritornello perfetto, però qua erano proprio gravi, di quelli telefonati all'italiana, immagino che tu hai presente un po' quello che intendo. No, sicuramente sì, tranne quello di Lazza, quello di Vittorio. Esatto, esatto, l'unica, infatti di là ho detto, ecco perché Lazza è al top. È Lazza, cioè nel senso. Eh, esatto. E tocca a Lazza, è difficile che una traccia con Lazza, dico, non mi piace, è proprio difficile. Quindi lì era super facile, però lui singolarmente, soprattutto nei ritornelli, sono super d'accordo, lui quando ha fatto i ritornelli, didastro proprio, cioè... sì, però è un disastro. Un servizio melodico, disastro. Sì, sì, è il disastro. Esatto, melodicamente, a livello di melodia non c'era, poi l'auto di un set atto in quel modo, squillante, lop. Totale, questo, immagino neanche tu sappia chi sia, la faccia bianca. Ma la marcia è uno dei grandi, dei miei più grandi rimorsi, di non aver ascoltato durante l'anno, perché Milano dannata, non l'ho ascoltato alla fine bro, non l'ho ascoltato, ed è... perché non mi sono sempre detto, ok adesso, cioè devo trovare il momento in cui ascoltarlo, però già sentendo Milano dannata, e altri, i singoli pre-album, ho detto, questo secondo me è molto figo, però non l'ho ascoltato, però ho visto commenti positivi, quindi adesso dimmi un po' tu Marco lì. No, io, cioè, si può dire palesemente, nel Rapid mi sa che mi è uscito, no, perché non uscivano gli album, comunque penso sia tipo il secondo album, Dovotone e Boy, che ho ascoltato di più, per dei motivi anche molto simili a quelli di Umile, cioè proprio testi che mi arrivano dritti in pancia, cioè mi immedesimo perfettamente in certe cose, con un sound molto pulito, molto minimale, forse anche troppo certe volte, ok, poi io, iper fan di Chiello, quindi, sì, infatti, avevo anche delle aspettative alte, capito? Sì, perfettamente rispettate, cioè per me è un discone, cioè proprio, eh, ma ho visto che la recezione è stata quella, proprio bel prodotto, poi ripeto, comunque, buonanotte a Nick, un applauso, gli mando un applauso, lo ringrazio anche per la sub che ha fatto prima, ringrazio, e mando un applauso anche chi è in chat, è Quora che magari non sta commentando, però sta seguendo, bella per voi ragazzi, eh, niente, però sì, ripeto, Milano d'annata, uno dei brani più fighi che ho sentito quest'anno, c'era un periodo, ero proprio, mi era entrato un botto in testa, e quindi quello è un grande rammarico, però mi fido della tua, della tua cosa, e dove lo metti? Molto figo, album dell'anno, valido? No, album dell'anno, proprio, io mi fido di te, mi fido di te perché sono sicuro, cioè sentendo le robe, recuperatelo, recuperatelo perché, non so come sei tu in quella vibe lì, eh, io non la tocco perché, a livello personale, se entro in quella melma, poi mi piglia molto male a me, però, però sì, cioè mi dava, sentendo i singoli, le stesse sensazioni, diciamo, dell'album di Madame, ma nel senso che hanno voluto fare proprio qualcosa di artistico, non so come dire, fuori dagli scandali, proprio esprimere arte, 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 arte musicale. Sì, poi, altra, ultima cosa, fuori dagli schemi, capito? Sì. Non ci sono featuring, non ci sono, non c'è una marchettata, cioè non ha fatto un'iniziativa di marketing, che dici, questo è, si sta pubblicizzando, niente. C'è una roba fatta, fatta per fan, ma che merita di aprirsi, secondo me, al grande pubblico, perché ti parla di certe cose, come poche volte ho sentito fare. Ripeto, siamo lì, Marra, Tony Boy, Chiello, cioè ci sono pochi artisti, che riescono, secondo me, a veicolare dei messaggi profondi, con questa semplicità, con questo spirito qui, quindi super. Onesto, onesto, mi fido totalmente. Il prossimo, penso sia un tuo, uno dei tuoi artisti. carissimo Spender, carissimo Spender. Lo schippato, diciamo, l'ho schippato, non l'ho sentito proprio, quindi non saprei che dire. Allora, allora, a me è piaciuto, devo anche, assolutamente, e oggettivamente, notare il fatto, che fa un po' di fatica, a espandersi, il progetto Spender. Per quanto a me piace, cioè io sono, super preso bene in quella vibe, è anche l'ultimo singolo, che ha fatto venerdì, pochissimi ascolti, a me è piaciuto un botto, quindi ti dico, sì, devo essere soggettivo, ma, devo anche, mettere sui petto alla bilancia, che, che comunque fa fatica, a fare il saltone, quindi, ce la metto in cista. Cista ok, perfetto, perfetto, mi fico di te. Per quanto, ma c'è, c'è tipo la prima traccia, in cui rap ha peso, cioè, sai che lui fa sempre quella wave, un po' così, cazzone. Sì, c'è la prima traccia, dove il rap ha peso, devastante per me, devastante, quindi c'è, mi è piaciuto, però c'è un qualcosina sempre, che manca, o comunque lui ostenta troppo il meme, forse, e quindi, questa cosa qui gli impedisce, di fare ancora quel saltino. Sì, io ti dico esatto, da esterno, a me arriva proprio questo, cioè, tipo, magari uno che possa apprezzare di più, è Nello Taver, che ci sta, è divertente, è simpatico, spacca, però alla lunga, cioè, capito, sono più o meno sempre quelle cose là, tocchi più o meno sempre gli stessi punti, che magari, ti lasco, ti dici, ci sta, mi diverto, eccetera, però, allo settembre dici, si può fare di più, si può usare, si può espandere, eccetera, eccetera, capisco benissimo. Il punto che lui l'ha anche fatto, cioè, in questo disco, c'è qualche traccia in cui parla un po' più della sua persona, tira fuori argomenti nuovi, però il problema è un altro, che lui, essendo partito col meme, ha continuato la carriera col meme, ha triardato col meme, quando fai cose un po' più, un pelo più profonde, la gente non se le prende, capito? Cioè, non te le crede, è quello un po' il discorso. Eh, capisco, cioè, capisco, ci sta, ci sta, e poi dipende perché c'è gente tipo appunto Tony Tumilli, che secondo me riesce a rischiare bene le cose, cioè essere meme allo stesso tempo essere credibile, eccetera, eccetera, vabbè, poi intanto spero ci sia il suo progetto, se no l'aggiungo io dopo, perché quello che non c'è è grave, molto grave. Eh niente, i prossimi sono Big P e Touché, tu l'hai sentiti? No, ma non è trap house di slings? No, 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 scusami, è simile alla copertina, ma non è quella. Eh, tu non l'hai sentito, mi ha detto quindi, no. No. Io lo metto in flop, a momenti ti direi anche imbarazzante, perché, il Touché secondo me aveva un gran potenziale, adesso è entrato in questa wave, che vuole fare il tough, il duro, però proprio canzoni banalotte, anche per lo stato della scena, proprio, tra il flop e imbarazzante, diciamo, non metto imbarazzante, perché non mi ha, che già ti ho fatto incazzare, come quello di Ensinerone, però, a tratti siamo lì lì, ok, adesso abbiamo quarto di Wu e di Chi di Yugi, ok, questo è un altro progetto, magari lascio parlare prima a te, la mia, cioè me lo dovrei risentire, però l'unico problema che ho avuto con sto progetto, sono state le produzioni di skin, in alcuni tratti. A me Yugi, vabbè, sono stato il primo magazine a parlarne in Italia, di questo, fatemelo flexare, eh sì, e tra l'altro, adesso non c'è Nick in chat, e io lo stesso l'ho scoperto un bel po' di tempo fa, con il brano NoKizi, con 18K. Sì, quindi c'è, sono fan di Yugi, però devo anche ammettere che, in certe cose, a un certo punto diventa ripetitivo, ok, penso abbia questo problema, e in questo disco qua, un po' l'ho sentita questa roba, sintetico, è una hit gigantesca, te la metto nei top 5 brani miei dell'anno, probabilmente, una top 10 al 100%, quindi ti direi un cista. Cista, però anch'io... Cista è un valido, ecco. Eh, esatto, però io tra un cista è un valido, io te lo sparo un cista, perché alla fine, non l'ho ascoltato più di tanto, e ha avuto anche un po' di problemi, quindi dico, ci sta, perché comunque ci stava, però, aveva lo stesso dei problemi, che mi hanno fatto fare fatica, ad apprezzarlo al 100%, cioè forse c'è solo un brano, che mi è piaciuto veramente, veramente, che adesso non mi ricordo il titolo, e basta. Gli altri avevo, cioè, magari mi davano problemi in alcune robe. Questo cos'è? Johnny Grano, Stallone, questo neanche tu l'avrei ascoltato, no, è sempre McRap, Great Again, quel gruppo là. Venerus, lo stesso, questo è un rambarico, vabbè, un non ascolto per me di quest'anno, quindi non lo so. Però vi so. Quello che era capitale, l'ha messo tipo, primo, negli album non rap dell'anno, una roba del genere, mi sembra il duce, signore, lei non può solo dire così, però, ma per i modi di fare, forse, più che per l'aspetto. Un po' ce l'hai quella, ce l'hai un po'. Ah, anche per quello dici? Adesso. Eh, Lucio, vuol dire che non segui, non segui la page, come Lucio? Ne parla comunque, Marco, la page. Un pochettino. Comunque tu dicevi, Venerus, tu dicevi, tastiera l'ha messo, l'ha messo, in realtà vorrei, vorrei, vorrei riascoltarmi, sinceramente. Perché a me, Venerus, prende bene, quando. Sì, 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 ma cazzo, Magica Musica è una hit. Poi se vuoi entrare, sei il benvenuto, eh. Se vuoi entrare, anche tu sul discordone, per discutere. Allora, quindi, boh, io lo piace non ascoltato, anche tu dovrei dargli qualche spin in più, quindi, vabbè. Questo cos'è? Quest'isola di merda. L'ho già visto, ma non... Vaffanculo. Via, fuori dal cazzo, la Young, fuori dal cazzo. Questo cos'è? Boh. Cosa hai mai visto? Tu, neanche tu immagino, l'hai sentito questo, con gli uccelli. Vaffanculo. Eccoci qua, cultura di disgaccia, Carberry, vabbè. Cultura di disgaccia. Eh, bro, secondo me, è uno dei progetti più fighi di quest'anno, anche questo, lo stesso. Non ti direi album dell'anno, ma quasi, per me. Perché... Mi piace che finalmente siamo molto in disaccordo su qualcosa. Onesto, onesto. Vabbè, allora, io poi, io ho fatto con la vibe di disgaccia. Allora, post-cultura, un pochettino mi sta scendendo, perché i tempi vanno sempre che si sposano. Però cultura come progetto di per sé, a me piace un botto, perché superproduzione di sala, mi piace proprio a me quella vibe poi positiva, motivational, anche ogni tanto con quei cori gospel, tutta swag. Poi io amo, cioè lui fa questa roba molto che è presa da americani e gente come, soprattutto YSL, quel filone là, che la parola, le rime, le parole, le frasi sono più un flow è un modo di stare sulla produzione come quasi che sei tu uno strumento che è un significato stesso. Quindi è un modo di aggiungersi lui al beat e mischiarsi alla produzione un po' come una sorta di montagna russa. e poi io ho fatto con quella roba là, c'è la prima roba che mi viene in mente che fa ste robe è Yantag, che mi dice cose che non hanno senso, che però bro, cioè, te le dice piegando la voce o incastrando le tra di loro in un modo che è una hit totale. Quindi per me molto figo barra album dell'anno. Dimmi un po' la tua bro. Allora, il problema che ho con Disgaccia è che finché ero preso bene dalla sua originalità, dal suo modo unico, comunque, questo io riconosco di esprimersi, di stare sulla base a livello di testi e tutto quanto, ero preso bene. Poi ci è arrivato un momento in cui ho iniziato a cringiarmi e poi questa cosa qui è andata sempre più down. per proprio arrivare al punto massimo col disco. Cioè, capito, sono giunto a un punto in cui cerco dell'altro dalla musica in generale, no? Ok. Mi dà un po' fastidio, ecco, la cosa brutta è che non è che mi piace indifferente, capito? Sono arrivato al punto in cui mi dà fastidio quella cosa lì, mi dà fastidio come si esprime, mi dà fastidio la cosa di versetti, capito? È una roba che sicuramente persona squisita, perché come persona penso sia anche la persona, però come artista mi ha cringiato, è quella cosa giusta da dire. Io diciamo, sto iniziando a entrare un pochettino a tratti in questa fase, in questa tua fase, però, nell'operato post-cultura, perché anche di là ha iniziato secondo me a, cioè perché fino a cultura mi sa proprio di autenticità, cioè si ti fa tutte ste robe qua, però c'è proprio un sentimento genuino di cazzo volercela fare, voler andare a porcatoria in America a registrarti il disco, aggiungere quei sound malati, eccetera, eccetera. Dopo sembra che stia diventando più personaggio che, cioè sembra che stia diventando, non dico il meme di se stesso, ma qua, perché non è meme, cioè meme non è la parola giusta, però un po', bravo, bravissimo, sta rischiando su quella roba là, la parodia di se stesso quasi, eh la bravo, la parodia, non il meme, la parodia di se stesso, esatto, mi ha dato un po' quelle sensazioni, però, per me, giuro, cultura per me tra progetti dell'anno, quindi a mani basse, cioè io ce lo sparo di là, perché, cioè per me ogni brano, tranne quello forse con Nerissima e Tony, non mi fa impazzire, più che altro per il sound, tutti gli altri, per me sono brani proprio fighi, 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 quindi io ce lo sparo di là, questa è dittatura Nikito, ok, il prossimo è Mekna, tu l'hai ascoltato quello di Mekna? no way, no way, io l'ho ascoltato solo una volta in live, e devo dire, sono rimasto stupito, in positivo, secondo me è anche questo, un gran bel progetto, passato in sordina, molto figo musicalmente, belle performance di Mekna, anche a livello di D, ci sono brani molto particolari, anche dei campioni, adesso vado a memoria, perché poi non l'ho più riascoltato, però veramente un gran bel progetto, io lo sparirei invalido, poi non ci ho roccato più di tanto durante l'anno, l'ho sentito in live, e ho detto la verità, proprio nulla da dire, nulla da dire, poi non l'ho spinnato tanto, quindi ce lo sparo invalido, questo qua, cos'è? questo è il signor Freeman, ah ok, io Freeman non sono fan, quindi poi, mi ha già dato un paio di chance, poi, I don't rock with him, io devo dire una cosa forte, e lo dico anche con questo in mano, per affetto nei confronti dei ragazzi, sono qui per un po', che purtroppo, devo essere oggettivo, nel dire che, il progetto 30-20, ad oggi, ad oggi, ha flopato, posso dire in maniera oggettiva, il problema grave, secondo me, è stato il non fare, il mixtape tutti insieme, quando la, diciamo, la wave era alta, c'è stato un momento, secondo me, in cui erano in super tendenza, Zyrtec, Radical, Spender, potevano trascinare anche i minori, quindi, quali, quali Freeman, Astro, e via dicendo, quella roba lì, non l'hanno fatta, per motivi X o Y, e, 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 tu lo sai Marco, sputtaniamo tutti, mettiamo i dati sulla carta, mettiamoli sul tavolo, i fogli, i fogli con tutte le informazioni, i dati, mettiamoli sul tavolo, la verità è che, ci mancherebbe, non si sono, cioè, che avevano tutti, management diversi, e quindi, sto scherzando, ovviamente, non siamo mai qui, ci querelano, per, e, comunque, non si sono incontrati, a un certo punto, cioè, dovevano, dovevano farlo, le P questi, cioè, il progetto, dovevano farlo, tutti insieme, no? Però, si sono fatti prendere la fretta, di voler fare le robe singole, da sole, cioè, ognuno per, per i cazzi suoi, e si sono completamente sfaldati, cioè, Zyrtec, c'è un ascolto di Spotify, ultimamente imbarazzanti, l'ultimo disco, è stato imbarazzante, Priman uguale, Spender, a me piace, ma, abbiamo detto che non sta facendo saltino, Radical, è calato tantissimo, Radical ragazzi, io, io, da, io, posso parlare della rage, imbarazzante, veramente, non so cosa cazzo gli sia successo, perché lui lo stesso il potenziale ce l'ha di brutto, ma, suona goofy, goofy as fuck, goofy as fuck sulla produzione, cioè, proprio, senti che è finta quella roba, nel 2021 erano al top, ma anche Radical, sull'age era al top, sì, sì, ma, ma si sente che anche tipo, anche nel, 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 nel coso di urlare, c'è un potenziale assurdo, però, mi sono talmente, cioè, non finto, però, proprio forzato, esageratamente, ricercato che vuoi rifare quella roba là, o che vuoi portare quella roba, e viene fuori, poco proprio, proprio, poco, genuina fuori, peccato, peccato, perché erano un bel movimento, quindi, eh sì, perché altro separati, secondo me, anche Zirti, che avevo visto dopo, cioè, poi ne parliamo, cioè, sì, però, manca proprio il fattore wow, che magari potevano avere prima, che io, mi ricordo, mi ero recuperato il progetto, anche con te in live, forse con te avevo sentito la deluxe, poi mi ero recuperato il progetto, e dicevo, e dicevo, cioè, figa sta roba, cioè, si sente che c'è, perché lo si dicono, c'è della magia un pochettino, no? Quella, c'è della magia, ma ti hai preso benissimo, mi ricordo, quel frizzante, eh, invece niente, quindi vabbè, prima, poi in particolare il progetto non l'ho sentito, poi non so tu, mettere i flop, lo scherzo tutto, mettere i flop, un flop, madre perla, madre perla, devo dire, anche questo, album dell'anno, non lo so, però tra i più validi, validi barra fighi, è un po', ci sono dei momenti un po' dubbiosi, però proprio, per me il concetto di, fare un po' alla Griselda, no? Un produttore, un rapper, eh, eh, brani, brani, brani fatti tra di loro, così belli rap, eh, era molto figa, l'esecuzione è stata molto buona, ci sono un po' di brani, questionable, eh, però per il resto c'è un progetto figo, secondo me, su tu cosa ne pensi, ma, poi, il brano, il brano con Benny the Butcher, tra i più figli dell'anno, sicuramente. No, io penso che, eh, in quanto hater, di due pequegno, la mia, ho proprio questo tier list, non è questo, cookies and cream, giuro che sta super it, eh, vedi, a me invece, tipo quella, non mi ha fatto impazzire, oppure anche, mollami, però c'è tipo, cosa ne so, il brano con Mahmood, è fighissimo, anche quello con Marra, mi pare, ci sono da una con Marra, molto figo, eh, i primi brani, quello con Benny, no, c'è proprio roba, bellina, bellina, eh, quindi poi, io ce lo sparerei molto figo, comunque, non sono neanche io un grande fan di Guè, però, bro, se il progetto hitta, per me hitta, non so se vuoi aggiungere qualcosa, io, lo, lo, cioè, lo hater, ma non, non come personaggio, no, proprio musicalmente, spesso anche io, per me è lo stesso, tipo la strofa che ha fatto nel disco di Yugi, imbarazzante, o anche, in quello di Sfera, mamma mia, sente cringe, allora, il prossimo, se vuoi fare tre strofe a venerdì, è normale, che poi, debba un po', traiardare, eh sì, questo c'è, l'isco, questo è di Les Torrance, membro di Santa Sede, che è un gruppo molto figo, che anche questo è uno dei dischi, che è rammarico di non aver ascoltato, quest'anno, eh, tu immagino non segui, quel movimento, eh, niente, quindi lo mettiamo anche di là, dire anche il prossimo, che sembra un Takashi 6ix9, diverso, dei poveri, dei poveri, esatto, Santana Season, Santana Season, cosa ne pensi? Allora, secondo me è stato un errore, parlo come album, perché la metà delle tracce sono schippabili, ti devo anche dire che quelle non schippabili, secondo me sono fighe fighe, quindi se avesse fatto un EP super snello, 6 tracce, 6 martellate così, mi sarei preso benissimo, come album faccio fatica, quindi te lo metterei niente di che, ecco, perché, perché, diciamo, anacquato da tracce schippabili, onesto, io, io, io voglio aggiungere una categoria, denominata cringe, solo per questo disco, io, io ripeto, anche qua, Milan Devons alla fine, mi era discretamente piaciuto, aveva i suoi momenti, dubbiosi, però, ci sta, questa io, cioè, più che altro l'ho trovata proprio una presa per il culo, cioè, da ascoltatore, mi sono sentito proprio preso per il culo, perché, cioè, i brani banger fighi erano quelli prima dell'ultisco, e sono i primi brani, a un certo punto, poi c'è quello con Pyrex, tipo, che però è, suona proprio male, secondo me, poi iniziano serie di, di, di brani, tipo d'amore, ma proprio di basso, di basso livello, a mio parere, di basso livello, poi si ripiglia un attimo, se non ricordo male, e poi c'è la cringiata finale, dove cerca di fare il Drake, però droppandomi barre, che bro, cioè, non, non sei proprio convincente, mi sentivo proprio preso per il culo, diciamo, ma che cazzo stai dicendo, poi magari questa è una bambina, non sono un grande fan di Shiva, proprio a zero, cioè, lo rispetto a tratti, ma, come è, aggiungere una categoria cringe, però, dai, anche niente di che, ci può stare, niente di che, ci può stare, poi io sono attratti, hater, fan no, però, comunque mi sta simpatico, però, vaffanculo, allora, il prossimo è teoria del contrario, di Danny Five, fatemi sapere in ciò, cosa ne sapete, pensate di queste mie parole, se sono, o se sono, ti dicono addirittura, teoria album dell'anno, l'album dell'anno, mi sembra un po' troppo, o troppo, però, ti devo dire, avevo aspettative, bassissime, ho apprezzato un sacco, la scelta di featuring, ho apprezzato un sacco, mettere tantissime tracce, e ci sono, venute fuori delle hit, cioè, 13-12, è stata una delle, delle top 10, tracce dell'anno, per me, e quella con Dream, con Dism, con Dism, vaste, per me è stata, devastante quella, quindi io, personalmente, avendo aspettative, così basse, lo metterei, mi galleggia, tra molto figo e valido, avendo aspettative, e anche io, devo dire, sono parti, aspettative bassissime, proprio, anche dall'ultimo disco, Five, mi pare, che mi aveva, proprio deluso, e poi, ma anche quello prima, post match to the mixtape 4, quello è stato, il suo peggiore, secondo me, e scusate, se ci stiamo, tipo, sì, sì, esatto, proprio detto, bro, what the fuck, Tiro del Contrario, invece, è stata una bella rivincita, esatto, perché ho visto, proprio, voglia di divertirsi, voglia di fare, musica divertente, presa bene, figa, sperimentare un pochettino, poi, ha i suoi momenti, un pochettino, più dubbiosi, però, ci sono alcuni brani, ci sono stati dei brani, veramente, bellini, fighi, che suonavano bene, e quindi, quindi, io lo sparerei invalido, poi, anche questo, l'ho ascoltato, in live, e poi, penso di non averlo più ascoltato, però, dei ricordi, abbastanza vividi, ricordo che, che avevo detto, figo, cazzo, cioè, ci sta, ci sta, avevo detto, ci sta, cazzo, bello, quindi, lo mettiamo invalido, il prossimo è invichilla, no, non invichilla, ma, sì, forse invichilla, sempre, con la mano nel cuore dorato, vabbè, io non l'ho sentito, su te, no way, no way, il prossimo è, facendo faccende, ultimo piano, ma bro, l'altro giorno, il bro è uscito con un disco, ma io neanche, neanche me ne sono accorto, però, è un progetto breve, poi magari me lo recupererò, ma, poco interesse, attualmente, non so se tu l'hai sentito, facendo faccende? no, quello nuovo di Dani, Ah no, non ho, non ho avuto modo, no, quello di Mambo, io non l'ho sentito, però ho visto un po' di recensione, perfetta rappresentazione, della categoria, imbarazzante, ah, anche il signor, anche il signor Lucio è d'accordo, ma veramente imbarazzante, bro, ma io penso che, forse Mambo, nel 2024, potrebbe iniziare a fare un tonfo, eh, sì, ma più che altro, ti vai, scusa, non ha niente, non ha più niente da dire, mi sembra che sia tutto una cosa traiardata, di lui che si è costruito questo personaggio, e cerca di tenerselo, questo personaggio non dà più niente, perché, flexare le cose, lo fai all'inizio, poi a un certo punto è diventato noioso, e, proprio, facendo faccende, è stato, un buco nell'acqua, in questo senso. Onesto, ci credo, ci credo, più che altro, poi c'era un periodo, faceva brani fighi, tipo, demone, che riprendeva con lo stile americano, tipo di gunna, però, però, cioè, era figo come brani, cioè, prima del disco un po' di brani fighi li aveva sparati, poi sì, da quel capito, fa proprio, anche vedendolo, magari online, sì, fa il personaggio, poi bro, cioè, se non sperimenti con la musica, non azzardi, cerchi di, di farsi la tua roba, però, sempre con quella roba un po', capito, che sembra, ti sembra un po' impacchettata, un po' forzata, un po' apposta per farla funzionare, non frutto di un genuino, incontro, di, voglia di esprimersi, anche in modo divertente, che, che quando sei, quando sei un artista di questo tipo, cioè, bro, che fai musica divertente, devi far divertire genuinamente, se ti devi sentire che tu ti sta divertendo, e niente, quindi, sto peccando di questo, questo è, Drill for Life di, cosa che io non ho sentito, raga, Young, non mi ricordo neanche più come si chiama, cioè, andava anni fa, insieme a, chiama, eh, diglielo, 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 che è di Genova, vabbè, non mi ricordo, questo, con la faccina sorridente, io non so cosa sia, immagino neanche tu, io, il coraggio dei bambini, eh, io l'ho sentito inizio anno, poi non l'ho più sentito, mi ricordo, che era bellino in alcune robe, però, mi ricordavo che era un po' troppo lungo, c'erano dei brani un po' filler, che potevano essere scartati, eh, a un certo punto aveva iniziato a stufarmi, però, c'erano dei brani carini, che mi erano piaciuti, eh, e niente, cioè, io lo metterei o in cista, o invalido, però, poi non l'ho più ascoltato più di tanto, poi, diciamo, nella mia, la mia scia, però vi sei piaciuto, agli altri durante. no, sì, sì, come numeri, cioè, tanto di cappella, è andato veramente bene, sì, cioè, mi sa che come numeri è stato uno in assoluto dei migliori album dell'anno, top 3, come numeri top 3, mi pare, così, poi, proprio, non mi piace zero, giro, zero, 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 cioè, quindi, non conta il mio parere in questo caso, eh, cioè, per me ci sta, però, cioè, non è la mia scia, non è la mia scia, però, di solito, quando hai un feat, fa il suo, ma io lo metterei in ci sta, metterei in ci sta, così, Medi, io mi ricordo, non so se tu ascolti Medi, io mi ricordo, avevo sentito il live, ma lo metterei, o cringe o imbarazzante, cioè, se facevo la categoria cringe, o cringe o imbarazzante, ma perché non è proprio la mia roba, ma poi, eh, non aggiungeva niente al genere, eh, esatto, plasticoso, perché comunque c'è la wave di quella, di gente che ascolta la roba più francese, stile francese, io poi non sono molto esperto, però, tipo, il brano con Capo Plaza, o altri, l'ho trovato veramente crinico. Sì, non ti dico, allora, Aray con Plaza, per me sta una hitona, cioè, l'ho ascoltata molto, molto, però le altre, super plasticose, sì, però, quella con Plaza, mi è piaciuta un botto, cioè, sono entrato in quel mood, quindi, l'ho, l'ho, l'ho macinata, per il resto lui, vai, lo metti, imbarazzante lo metto, dai, sa chi, boh, ha droppato un progetto, e non l'ha ascoltato, qui non so se mettere flop o imbarazzante, dico, il progetto, ma perché sa chi, per me è forte, è forte, cioè, e a me crincio, perché sembra un guè, un guè wannabe a tratti, cioè, a volte fa e spacca, a volte sembra un po' troppo, deve fare il, oh, cioè, secondo me, in carriera, ha fatto mille cose meglio, di tutte le tracce presenti, in questo progetto, quindi, c'è, allora, facciamo così, per le aspettative che avevo, metto addirittura imbarazzante, vai, imbarazzante, va, ci sta, ci sta, come io non ho molto da dire, se non che non mi fa impazzire, questo qual è? Blu, che tra l'altro sembra la copertina di Circles, di Mac Miller, è un altro disco che mi devo recuperare, Fiori Blu, di Cabelli, Capelli, Fiori Blu, vabbè, io non l'ho ascoltato, questo cos'è, LDA, LOA, no, non lo stesso, non so, non so chi sia, non l'ho ascoltato, eh, questo è il figlio di Gigi D'Alessio, ah, porca troia, eh, questo cos'è invece, è lo stesso, non so cosa sia, è una ferma, l'entro di una stazione di provincia, di Trenitalia, questo cos'è, l'altro è buono, non lo so, una tipa, questo maestro, boh, non so cosa sia, schifo tutto, ok, è di quest'anno, Zyrtik, se mi ricordavo dell'anno scorso, Casper, no, come si chiama, eh sì, quest'anno, quest'anno, mi ricordo, l'ho sentito, lo metterei in cista, perché alla fine i brani che spingevano c'erano, non tutti mi facevano impazzire, però, mi ricordo, non avevo sofferto l'ascolto, quindi, già tanto, alcuni brani mi erano piaciuti parecchi, mi ero gasato, e lo metterei in cista, non ho molto da dire poi, più altro, tu, tu, magari hai da dire, boh, per il discorso fatto prima, io personalmente lo metterei in flop, per il discorso fatto prima, no? sì, poi, cioè, capito, se, se quest'album lo fa qualcun altro, che non conosco, e non ho aspettative, dico anche io ci sta, se lo fa un Zyrtik, che per me è un'artista forte, eh sì, aspetta, perché sto cercando, ah, Emotional Damage si chiama, eh, c'era tipo Casper, forse anche Toxic, che spaccava, ma se voi lo mettiamo nella via di mezzo, siccome non ho sentimenti forti, a riguardo, mettiamo niente di che, forse niente di che, sì, qua c'è un disco, faccio uno spoiler, potrei fare uno spoiler qua, comunque, mi top, per ora teniamo, diciamo, top 3, se non top 2, dischi dell'anno, ovvero, bellissimo di Green, eh, torniamo al discorso, allora, io sono fan di Green, poi, l'avevo un po' perso negli anni, ma con l'album dell'anno scorso, Nicholas mi ha riconquistato, e questo è l'esatto opposto di Brava Gente, ovvero, un progetto, rap, boom bap, stile classic, che però, suona da Dio, le produzioni di Sick Bud, bellissime, spietate, super, cupe, eh, poi c'è tutto un filone, sembra, è bello perché poi, è un progetto che scorre liscio, 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 eh, i Green è incazzato, è sfac, ti fa rime, eh, spietate, sta benissimo sul beat, sulla produzione, veramente, è un progetto fighissimo, per me, tra gli album dell'anno, assolutamente, tu non l'hai ascoltato, immagino, no, non l'ho ascoltato, proprio, eh sì, non so neanche che faccia ai Green, vediamo, te lo faccio vedere, è i Green, la roba figa di Green è che, siccome è uno di, è quello di, che fa rap, 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 proprio classico, vecchia scuola, proprio da, da cattedra, quattro regole, che però è, rimane cazzo, real as fuck, perché anche, anche la sua vita, la vita che conduce, è sempre al limite, tra essere un poveraccio, e riprendersi, rovinarsi, cioè, si dedica proprio la vita, si fa il sangue amaro, per sta roba, e suona real as fuck, e poi è sempre informissima, figo, figo, lui è i Green, qui sta, ok, quindi parlo di là, questo cos'è? Amore Mala, ok, Papà V, no, sembra Papà V, no, 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 non conosciamo neanche lui, ah, ricordiamo che, che manca anche, identità di noi, si ma sterpe, si, ne mancano un po' di quelli, novembre e dicembre, eh, ci recuperiamo poi, si, Outsider di Nitro, bravo, discorso ho fatto, discorso ho fatto, si, forse addirittura, imbalazzante, si, no, imbalazzante, è un'ottima rappresentazione del flop, ma è un'eccellente rappresentazione dell'imbalazzante, per me lo stesso livello, cioè, lo stesso discorso di Enzi e Nerone, cioè, barre, rime, veramente, bro, sembra post di Facebook, bella Cioppi, oh ragazzi, comunque ripeto, se c'è, Avec, Cioppi, che vuole entrare, guarda che Cioppi, sta roba, come ho detto prima, diviene l'orticaria, secondo me, a parlare di questi album, e niente, comunque, si, Nitro, lo stesso discorso di Enzi e Nerone, veramente, testi, che sembra veramente il livello di boomer complottista di Facebook, di Movimento 5 Stelle, veramente, bro, una roba, di brani schippati, per me, forse il disco più brutto dell'anno, ma per me, quello che mi ha fatto stare proprio peggio di tutti, poi le produzioni, lo stesso, a volte Drill, altre, bro, puzzolene, cioè, niente di boh, proprio un bro, imbarazzante, da un Nitro, che comunque è uno, cazzo, sì, io ero fan di Nitro, però, cioè, non è che te l'ha fatto l'ultimo di Emergenti, una merda del genere, te l'ha fatto Nitro, sì, 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 no, l'alante è, l'alante è brutto, ma, eh, Lucio, dici, raccomentaci un po', cioè, convincici dal contrario, o poi magari me lo riascolto, ed è una mina, è un libro di numeri, disastro, sì, sì, no, l'alante è brutto, l'alante è brutto, questo non so chi sia, Pandetta, mi sa, o no? No, no, mi sa, eh, comunque no, non so chi sia, rimpicciolire la pagina, ma che tanto piano piano si prende, Innocente di Baby Gang, tu l'hai ascoltato? Sì, io devo dire, bro, cioè, scom'è, allora, mi è venuta in mente sta roba, per fortuna no, però mi ha ricordato, tipo, gli album postumi, ma perché? Perché è palesemente un progetto incompleto, che aveva quelle 3-4 tracce pronte, fatte e finite, e tutto il resto, bro, era da rifare, da risistemare, da continuare, da riarrangere, perché, bro, un disco palesemente incompleto, che magari ha i suoi 2-3-4 brani, tipo, c'è la 4, fighi, però, gli altri brani sono tutti ultrasimili, banalotti, non mi sono piaciuti per niente, e quindi, boh, non so neanche, non saprei neanche dove metterlo, forse niente di che, niente di che, sono d'accordo neanche io, eppure io sono, non dico no, fan no, però, baby, respect totale, secondo me, può diventare uno dei più forti in Italia, total, io ti dico, a proposito, occhio a Simba Lanru, e il 5 gennaio, hai visto il fit? Sì, allora, il fit non mi sono piaciuto, mi hanno un po' sgasato, ti l'ho detto, cioè, comunque Simba è un pazzo, un po', capito, i classici fit, che vedi là per tutto, un po' da industrie, però, cioè, nel suo caso, secondo me, ci stava, perché è un segno di riconoscimento, lo ho detto così, quello sì, cioè, secondo me, ci stava quando, andava negli album degli altri, cioè, secondo me, questa cosa che dici tu, funziona quando va nei dischi degli altri, poi non so cosa ne pensate voi in chat, nel suo, mi ha un po' sgasato, però poi vedremo il risultato, secondo me, negli ultimi mesi, Simba Lanru è stra in forma, ha droppato, ha droppato uno dei, penso il mio suo pezzo preferito, che è quello, come si chiama, che è là nella villa con la tigre, eh, ho capito, non mi viene in mente, ma ho capito, però mi ha dato proprio poi vibe, mi ha dato stra vibe, tipo, mi sembra di sentire la Dark Polo Gang del 2016, come Attitude, come Attitude, anche la strofa in, eh bro, in Triconsfera, cioè, ma infatti io dico, ragazzi, chieti era Simba in Italia, Simba Baby, a prescindere, cioè, per me, palese razzismo, palese razzismo, antipatia, proprio, che viene dal disgusto e l'odio nei loro confronti, che è, magari, sì bro, hanno fatto, non sono le persone le più simpatiche del mondo, ovviamente, poi fanno, magari non sono neanche le più pulite legalmente, però, però bro, fanno spacchi spacchi, cioè, non ci puoi dire, allora, questo qua non so chi sia, boh, lo metto in non ascoltato, Silent Bob, lo stesso è uno di quelli che avrei voluto sentire, ma non mi ispirava più di tanto, non so se tu l'hai sentito, no way, no way, Drillionaire, io hanno senso, questo non l'ho sentito, io, questo non l'ho sentito, ma vedendo un po', le reazioni della gente, potrebbe finire, potrebbe essere anche, peggior album dell'anno, oggettivo, vedendo le reazioni della gente, perché la gente si è presa così male, per me è una bomba, cioè, ma infatti, cioè, sarebbe figo se lo ascoltassi, sarei curioso, per me è figo figo, cioè, ha ripreso molti sample, anche strani, tipo, ha rifatto 50 special, con Sfera, capito, cose anche molto azzardate, ha rifatto fashion, cose super azzardate, ma c'è tipo quella parola con noi, mi l'hai sentita? No, non ho sentito niente, non ho sentito, non ho sentito la parola, cioè, ha ripreso canzoni X, rifatte in maniera super figa, a me è piaciuto un botto, poi, sì, tutti hanno fatto questo commento, cioè, sa di plastica, sa di cosa ha fatta, un po', a tavolino, a me è, a me è preso benissimo, invece, quindi, big up, io lo metto in un ascoltato, così, lo metto in un ascoltato, sì, perché non posso dire imbarazzante, cioè, quello che è, la sensazione che è arrivata, anche leggendo le cose, è che sia tipo una, un disco stile gelosa, non so come dire, non, con quella, quel tipo di formula la, gelosa per me è proprio il male, cioè, proprio, non il male, capito, entendi, cioè, è trash proprio per me, quello, ma non perché, ma perché è proprio anche la base, da cosa parti, ma anche dal potenziale che è, perché, è proprio la roba, mi è sembrato il corrispettivo di DJ Khaled in Italia, cioè, non so se tu, in America c'è DJ Khaled, che è uno che ha un botto di collegamenti, li prende tutti, però non c'è, cioè, si vede che è una roba forzata, fatta perché, vuoi quei nomi, però i brani, bro, sono monnezza, cioè, non mondezza, però sono talmente costruiti, e poi c'era, ecco, con la roba dei sample, ha cavalcato un botto, che c'è stato quel periodo di quest'anno, in cui, per effetto nostalgia, prendevi la roba, la ricampionavi, però senza aggiungerci molto, che è un po', una roba al limite, secondo me, e via, però non l'ho sentito, perché, lo stesso Blanco non l'ho sentito, mi hanno sconsigliato di farlo, perché, mi hanno detto, sono belli i primi due, tre brani, però poi, Baratro, tu non l'hai sentito, vero? Lucio dice niente di che, questo cosa cavolo è, che poi bro, il pop rap, cioè per dire, Taxi Driver di Ercomi, è un bel disco pop rap, secondo me, cioè, la cosa pop, che però musicalmente, suona anche bene, quindi secondo me, le cose si possono fare, però spesso non le si vuole, non si ha il tocco, questo, boh, cos'è un cactus, non so cosa sia, mettiamolo qua, bro, Bunker 44, questi, io non lo stesso, anche loro non li ho sentiti, perché ho avuto, mi piacciono molto loro, però non l'ho sentito, io avevo sentito il primo progetto, non è la mia roba, però c'era potenziale, imbarazzante, dicevo, ho visto molti che anche, che gli piacevano loro, che però, dicevano, flop, questo col buco, lo stesso da golf, non lo so, Dante non l'ho sentito, neanche ci tengo a farlo, questo con le freccette, non so chi sia, Jamil non l'ho sentito, per scelta personale, frate fidat, che cazzo è sta roba, via, che cazzo, devo ancora rimpicciolire, ragazzi, gazelle, vabbè sì, non l'ho sentito, cosa c'è, Jamil carino, non lo so, questa tavola rotonda, non lo so, quello di panetti, non l'ho sentito, FDM, FDM, tutto questo qua, toda sia, eccoci qua, Tedua, per me, flop totale, è proprio, è stata la più grande delusione dell'anno, per me questa, da ultra mega, iper giga, super fan di Tedua, per me è un progetto, proprio da flop, perché c'era, c'era un'altra divina commedia, che è stata scartata, ed è stato rifatto questo disco, però in una fase scommedia, ancora di insicurezza, di Tedua, ha voluto ricercare una roba un pochino, che tendesse un pochino più al pop, che non c'è niente di male, secondo me, però non mi sembrava spesso autentica, un pelo forzata, non c'era il Tedua, che, che Temari ti riesce a fare, anche quella roba un po' più pop, ma genuina, col suo twist, ci sono brani fighe, appunto, come quello di, con Kyugi e Baby, gli ultimi brani, Outro Purgatorio, quella prima di Outro, però poi ci sono anche brani, estremamente imbarazzanti, come quello con Sam e Rosvillain, quello con Ercomi e Brash, quello con, quello con Lazza, veramente, quello con Trash, ma più che altro per come è stato prodotto, perché suona veramente male, è off totalmente, e niente, poi è figa quella con Guè, è figa quella con Marra, è figa quella con Bunker, però è veramente, è stata una grande delusione, per me è un flop, un flop totale, so tu bro. Allora, allora, sono d'accordo, su molte cose che hai detto, però nel complesso, secondo me, lui ha fatto bene a farlo, cioè, sì, umanamente ti dico anch'io, sì, magari da, ma perché lui se lo sentiva, secondo me, di voler fare qualcosa in più, capito? Secondo me lui era anche stanco di essere sempre un po', di stare in underground, in realtà, cioè, lui voleva fare questo saltone, e l'ha fatto, quindi, sì, l'ha fatto. di dire che da questo punto di vista è stato un super successo, perché lui è riuscito nel suo intento, no? Come ci dicevamo prima, gli artisti si pongono un intento con gli album, e Tedua, secondo me, c'è perfettamente riuscito. Poi ti dico, personalmente, sono d'accordo con molte delle cose che hai detto, se non che per me intro è il brano dell'anno, perché è come se in intro ci fosse tutta la carriera di Tedua, perfettamente riassunta, e espressa nel massimo potenziale, ci sono altre tracce fighe, ma ci sono un'infinità di tracce schippabili. Sì, è quello il problema. Quindi io non riesco a commisurare queste cose, lo metterei comunque in alto, cioè, la cosa del fatto che lui ha voluto fare una roba, e ci è riuscito, ed è una roba difficile da fare, me lo fa mettere in alto, e intro mi aiuta a mettere in alto, poi, non in altissimo, ecco, però, sul tuo discorso sono d'accordo su molte cose, ecco. Io lo metto in flop, perché devo farlo, e poi voglio aggiungere, che comunque si ritenerà il discorso, per quello, in una divina commedia c'era, perché si sente in brani, appunto, quello coi bunker, outro, ma anche dai, ci metto dentro l'intro, c'erano, ci sono degli elementi di quel disco, che però poi è stato appunto scartato, ed ha voluto fare altro, si sente. L'altro grande problema, spesso, per me, sono state le produzioni, perché in brani, che a livello lirico, mi sono piaciuti, come quello con Julliet, adesso non ricordo i titoli, quello con Julliet a livello lirico, mi è piaciuto, però bro, te lo giuro, sembrano type beat, cazzo, cioè, ma anche la intro, a me la intro non piace, perché la produzione, sembra un type beat, di Lil Dirk, cioè, sembra proprio Lil Dirk type beat, con un pochino di arrangiamento in più, perché vengono da quella, da quella wave americana, hanno queste produzioni, un po', tipo Lil Baby, Lil Dirk, che sono un po' emozionali, con le chitarrine, i piani, e però hanno quella batteria, un po' plasticosa, ma perché? Perché in America, magari li fanno i ragazzini, oppure i produttori, magari, non li fanno un buon mixer master, eccetera, su molti brani, ho sentito quella roba là, proprio type beat, proprio type beat, quindi boh, mia, mia, maggiore, 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 divina pomedio, sì, sì, assolutamente, assolutamente, cioè, tutto, per me è il suo disco peggiore, ma in tutto, tutto, Radio Gotham, io ho un altro imbarazzante qua, un altro imbarazzante, imbarazzante, barra cringe, concordiamo su questo, posso avallare, posso avallare, sì, una, penso sia l'artista più, cantante più overrated, che c'è in Italia, attualmente, non so perché la gente, ce la spazia, c'è l'identità, l'altro, allora, devo dire, in questo album, ho salvato le produzioni, e le prime tracce, che erano qualcosa di interessante, poi iniziano le mid-date, le barre, veramente imbarazzanti, veramente da liceali, medie, che hanno 30 anni, c'è sta gente che ha 30 anni, cazzo, veramente, un livello di scrittura, di approccio alla vita, alle relazioni così superficiale, adesso non dico che mi devi essere, burubutu, però, cazzo, dai, c'è, molto più interessante la SAD, o perlomeno la SAD, per dire, perché non è una roba in mente, la SAD, magari ti fa quella roba, ma, che è semplice, però te la fa figa, non è, se le aspettiamo a Sanremo, le aspettiamo a Sanremo, a Sanremo, esatto, però poi per il resto, no, io ti dico, lo sviluppo non è forte, cioè, c'è un timbro, un attito di figa, però non è, c'è del potenziale, non è altro disco, no, no, zero, questo qua, non so cosa sia, eh, Manuelino, adesso si, c'è Manuelino, dicevo questo qua, con i graniti, ah, ok, sì, ma Manuelino, io non ho proprio zero ascoltato, però, eh, il tuo avuto in flop, esatto, perché ha un potenziale, clamoroso, che non sta sfruttando, o comunque non sta riuscendo a, a fare niente, importante, eh, si immaginava, anche perché era tra le tue scommesse, di quest'anno, no, assolutamente, no, di due anni fa, ah, di due anni fa, ok, però per il 2023, non mi ricordo, eh, questo non so che album sia, lo mettiamo qua, dove volano le acuile, ah, cioè, non so neanche, cioè, è la deluxe, ma sono tre brani in più, che ha messo, tre, quattro brani, bah, mettiamo niente di che, niente di che, per gli standard di Luke, io sono ultra fan di Luke, d'altro, non so se hai scaricato thread, la gente su thread è assurda, sì, no, l'ho scaricato, sono durato, forse, sei ore, poi, subito l'ho eliminato, perché, mamma mia, un immondiziaio, però il potenziale c'è, bro, forse tu funzioni meglio su Instagram, però ci sono pagine tipo a shop, anche io, o Youngerz, o altri, che secondo me, perché, io seguo, seguo molto Twitter America, e là c'è una community di rap, che parla su Twitter, che è praticamente thread, il Twitter di meta, e c'è del potenziale figo, no, giuro, cioè, la prima ora è divertito un botto, poi, minchia, troppo, cioè, io sono anche contro la sovra produzione, sì, al media, capito, adesso, poi, guarda, questa qua non so più sia, su Instagram c'è meno, ma con più qualità, e secondo me è meglio, eh, esatto, esatto, infatti, secondo me dipende anche da te, dal tipo di comunicazione, tipo, esatto, secondo me per te non funziona più di tanto, perché metti più qualità nei post, mentre magari, cioè, io mi ci trovo meglio perché, molto spesso magari voglio esprimere concetti, però non c'ho sbatti di fare post troppo elaborati, così, twitto, vabbè, thread al volo, scrivo un post su thread al volo, via, cioè, dico quella roba che volevo dire, per quest'altro, non so cosa sia, quest'altro non so cosa sia, knight di habitat, habitat di knight, scusate, eh, un altro che vorrei sentire, non l'ho ascoltato, a mio rammarico, knight flop, ho visto alcuni hanno detto, ci stava però, doom, secondo me, lavorone, ho visto recensioni iperpositive, pure io, pure io, ma poi là, cioè, ho visto anche al marragedo, knight è forte, cioè, per me è uno dei migliori in Italia, knight è underrated, scusate, è underrated, però sta prendendo un bel po' di pubblico, piano piano, secondo me, anche per come partiva lui, però è veramente forte, knight, però purtroppo non l'ho ascoltato, questo penso sia mattac, ma se l'avessi ascoltato, penso l'avrei messo in imbarazzante, questa lei, non so chi sia, sia Zoridi, la tipa di Greg Whelan, sia, poi, cos'altro abbiamo qua, minchia ogni volta dobbiamo rimpicciolire un botto, cosa qua, non so cosa sia, quello di Don, di Don Joe, io questo lo sparo in imbarazzante, lo sparo in imbarazzante, ma perché, hai preso artisti, è una roba simile a Drillion Air barra di Gioicale, perché hai preso artisti, anche interessanti, tipo 18k, comunque, robbero, non hai fatto il Mixel Master, cioè, suonano per veramente male, frate, perché, come cazzo fai a tirare fuori una roba, cioè, proprio, non è passato per il Mixel Master, sto progetto, o comunque, suona a scureggia proprio, vai, vai, scusa, no, no, si, era solo questo, che suona proprio male, bro, cioè, bro, che cazzo è sta roba, eh, niente, vai pure, no, dicevo, non ci sarà, forse, mai più, un producer album, credibile, figo, come era stato quello di Maze, no, frate, oh beh, oh beh, ma secondo me è uno degli apici, proprio del rap, top 10 album italiani, sempre, forse non top 10, per me, comunque tra i migliori, tra i migliori, negli ultimi anni, sì, negli ultimi anni, assolutamente, ok, quindi qua abbiamo, Motivation for the Streets, però, per me è uno degli ischi più figli dell'anno, cioè, è proprio anche questo, è stato uno di quei dischi, come quello di Tony Boy, eh, quali altri, che ho detto, che poi mi sono sentito fuori live, ah, sì, non mi ricordo, vabbè, comunque, tipo quello di Tony Boy, che, che ho detto veramente, bro, figo, tra l'altro, più l'ho ascoltato, e più mi è piaciuto, anche le racce su cui ero più dubbioso, mi hanno conquistato, secondo me, è uno dei progetti più figli dell'anno, top 5, cioè, non so top 5, però comunque, deve essere tra, nella classifica dei migliori progetti dell'anno, perché, innanzitutto, le produzioni fighe, cioè, la roba, bro, i brani sono fighi, i brani sono proprio fighi, ha delle criticità, non è perfetto, però i brani sono fighi, il peggiore è quello con Roseville, che schippo sempre, però tutto il resto è figo, appunto, c'è un po' di drill, vabbè, più o meno direi la stessa cosa che ho detto nel TikTok, l'album di Lucien non l'ho sentito, comunque bro, un progetto fighissimo, che funziona benissimo, arti e rondo, si alternano benissimo, le produzioni, scelte di produzioni, molto fighe, cioè, anche bro, mi fai un brano, Red and Blue, struttura, brano fighissimo, Red and Blue è una hit, cioè, poi mica, anche per caricarmi per gli esami, me l'ascolto, bro, quella con Rustichilo, ma che cazzo di beat c'ha, anche, oppure, cosa ne so, vabbè, quella con Bello Figo, veloce, tipo, io ho un rispetto, ho il brano con Bello Figo, io ho acquisito un rispetto per rondo, veramente infinito, perché anche, solo il fatto di creare, una situazione tale, in cui hai, Bello Figo, su quel beat, che ti fa quella performance, bro, cioè, per me è uno di quei brani dell'anno, cioè, cioè, mi stavo, mi stavo emozionando, cioè, mi sono emozionato varie volte, sentendo quel brano, quindi per me, tra gli album dell'anno, a mani basse, cioè, proprio, ho goduto, mi è piaciuto un botto, ma veramente tanto. Ci sta, ci sta. Tu che dici? Io, io invece, l'avrei messo in cista, cioè, in un... Ok. Nel senso, avevo aspettative, forse troppo alte, perché, ho massacrato, Trenches Baby, cioè, Trenches Baby, è uno degli album, che ho scallato, di più, negli ultimi due anni, e quindi, boh, sono d'accordo sulle hit, cioè, ci sono proprio tracce, che suonano, e suonano, cazzo bene, cioè, anche quella con Tony F, mi è piaciuto un botto. Sì, quella con Tony F, spacca, sì, sì. Spaccano, cazzo, sono fighissime. Eppure, non so cosa, ma mi manca qualcosa. Eh, Invece, c'è in Trenches Baby, c'è in Trenches Baby, ho visto il rondo al 100%, qua, insomma, il venirsi incontro, comunque, lo strutturare, è una cosa che funziona, per carità, è una bomba, funziona benissimo, però, c'è un qualche forzatura, un qualche cosa, non so, anche con le robe del business, con tutti i meme di nevio, eccetera, sì, figo. Allora, quello io non l'ho seguito, sincero. Non lo so, per me, è pieno di, appunto, bombe, anche adesso riguardano la tracklist, quella con Achille e Lauro, però, quello è uno degli, anche quello è uno dei brani più figli dell'anno, secondo me. Giù, giù, sì, sì, proprio una struttura, il ritornello di Achille, infatti, mi è venuta una voglia di sentire Ragazzi Madre, perché, devo ancora riascoltarlo, io non l'ho mai sentito. Let's go. Bella KV, comunque un applauso per tutti quelli che sono ancora in chat, vi mando un po' di, un po' di, un po' di suoni per voi, però, riguardano anche Yeho, è molto figa, esatto, secondo me, unica roba magari un po' critica è che Artie, cioè, Rondo ha fatto più la roba motivational, nei suoi testi, Artie mancava di quello, comunque, io lo sparo tra gli album degli anni, dell'anno, per me, proprio, a me è piaciuto un voto, e tra l'altro, si dico, io sono partito anche, a un certo punto quest'anno, non so perché, ho ascoltato Trincess Baby, perché, un giorno mi sono svegliato, avevo in testa una canzone di quell'album, non ricordo neanche quale, e devo dire, avevo reactato male, risultando alcune robe, ho detto, ok, sono fighe, Quartz Fraquintale, io non l'ho sentito, non so, il berù, Ascolto, non te lo? Ok, il prossimo è Massimo Pericolo, io non l'ho sentito lo stesso, però ho visto un po' di recensioni, poi non è neanche la tua shit, in teoria. No, ti dico, ci sono quattro tracce devastanti, proprio devastanti, bellissime, un nuovo Massimo Pericolo, testi, pazzeschi, strutturate bene, ottimi fit, eccetera, ma anche qui, annacquato da troppe tracce skippabili, quindi, faccio fatica a valutare questi dischi, capito? Perché ci sono tre, quattro tracce che mi hanno metto in playlist, e mi gasano a bestia, tipo quella Money in Love, è una hit gigantesca, c'è quella Totoro, pazzesca, ce ne sono altre due, tre, bellissime, e poi tipo, sei tracce che, skippi proprio a pie pari, quindi io te lo metterò in, non ci sta alla fine, tipo, tra cui, ma ci sta è valido, ok, ok, io penso molto, come diceva anche Cioppi, c'è la roba proprio dei beat drill, infatti, buh, sì, le cose drill, ormai le fai bene, o, quel tipo di batteria, veramente rotto il cazzo, adesso poi non ho sentito, io lo spari non ascoltato, perché, mi piacerebbe anche sentirlo, per dare una mia opinione, ci sta, eh, niente, Kid, e Sad Tours, lo stesso, questo è uno dei progetti più fighi di quest'anno, secondo me, lo metterei molto figo, non Album dell'Anno, perché alcuni brani non mi convincono al 100%, però, però, ci sono dei brani, quello di Gali, cioè ogni brano in cui c'è Arti 5, è una mina, quello di Lucchetto e Low Red, eh, che altro c'è? Eh, dato, io non ricordo i titoli, però, cioè quella lì, Turbo con Digital Astro e Tony Boyd, Turbo, ma anche bro, quella solo di Digital Astro, che quando, eh bro, ti dico, Faneto, Faneto di là è, a me non è piaciuto, cioè, non conoscevo Faneto, c'è quel brano che a me non mi era piaciuto, era quello che mi era piaciuto di me, non mi sa, perché non mi diceva proprio niente, ma mi ne fanno, là mi cringe un po' il ritornello di Anna, però le strofe sono devastanti, di Nerissima, Papa e, mamma mia, Itona quella, Fighissi alle strofe, che sia il producer album dell'anno, sì, 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 assolutamente, ma anche, il più figo da, oh beh, non so quali altri, se ne uscite, c'è per due, che si ha brani fighi dentro, ah, c'è per due, dai, c'è per due, diciamo, top 3, a producer album degli ultimi anni, Boost Freestyle, eh bro, veri, Lucio, Boost Freestyle bro, cioè io mi sono sborrato, ma anche quella dove c'è solo Digital Astro, perché hanno, ripreso totalmente il sound, allora, Galila, proprio fa una playboy card impression assurda, cioè proprio, però la fa, nel modo suo, figo, la ho goduto un sacco, e lo stesso bro, il brano di Digital Astro, come fai, è ripreso da Yeet totale, e il sound di Yeet, però anche là, ripreso un po' da Digital, è fatto un po' a modo suo, cioè io, solo il fatto che esistesse una roba del genere in Italia, fatta così bene, c'è proprio rispetto totale, quindi applausi per loro, Cult, Cult, devo dire, sono partito scettico, non studisco, però alla fine dell'ascolto, le mie conclusioni sono state, non sono né fan di Salmon e di Noiz, Noiz, vabbè, si è mangiato gli spaghetti in testa Salmon, però se fossi fan o di uno o dell'altro, o di entrambi, io sarei soddisfatto, perché alla fine i brani ci stavano, io lo metterei tra un ci sta e un valido, ha le sue cose puzzolenti, però alla fine, se ci sono anche robe interessanti, e che ci stanno, io lo metterei in ci sta, la stessa roba, non mi ha fatto stare male, diciamo, che è già qualcosa, da fan sfegatato di Salmo, si può dire, che sia il tuo peggior disco, tranquillamente, perché altro per me è per la scrittura, in alcuni, allora, l'ho trovato proprio forzato, non so, proprio male e male, non mi è piaciuto proprio zero, già flop, sono state le cose, che avevo dovuto un po' digerire, questo forse, decisamente più flop di flop, per quanto mi riguarda, forse il noise se l'ha mangiato, il noise a me, io non c'è stata neanche una performance di noise, solo in una, in cui stava in un beat, un po', adesso non mi ricordo che brano fosse, però il beat era un po', a livelli di ritmi, veloce, alti, e lui non riusciva a starci dietro col flow, cioè non stavo usando il flow giusto per quella produzione, là è solo quando ho notato noise fuori forma, però, mi è piaciuto un botto noise, perché sentendo anche il virus, il virus l'avevo trovato completamente fuori forma, telefonato, mentre qua l'ho ritrovato bello sul pezzo, non so, dai, te lo spari, non ci sta, non ci sta niente di che, non mi viene da dirlo, però, te lo piazzerei di là, perché comunque le cose interessanti c'erano, poi sì, secondo me il downgrade, il problema di sto disco è stato salmo, perché sono stati brani fighi, dove sembra essere tornato il salmo vecchio, no, perché ti fa un po' il racconto, un po' splatter, un po', e poi c'è invece il salmo, che a me non è piaciuto, degli ultimi anni, di flop, che è presente in quello in brani come cringe, che è ultra boomer, che ce l'ha con il pubblico X, cioè, c'ha i nemici, cioè, che è proprio un bollito, che dici, lo senti che sta bollito, e l'area è male, però, in generale, cioè, sarebbe da mettere anche in flop, volendo, anche perché, per il potenziale che ha, cioè, salmo e noise, bro, cioè, comunque stiamo parlando di salmo e noise, è una categoria, una categoria tipo raschiata, o tipo marketing, cioè, mi sa di roba, cioè, tipo fatta per guadagnare, capito, non vedo l'esigenza, secondo me, al punto della loro carriera, di fare un album insieme, di avere tutto questo entusiasmo, mi sa di cose un po', eh, più che altro non ora, forse qualche anno fa sì, qualche anno fa sì, perché anche varie volte che hanno collaborato insieme, hanno sempre fatto brani particolari, c'è sempre stata chimica, tra di là, la gigante, a me non era piaciuta, però anche solo per dire, bella Paolo, bacioni, Paolone, un applauso per te, ti vanno anche un po' di bambini, vale, Paolone, mio compagno delle superiori, che dico, bro, che cazzo ci fai qua, non è solo il torriero, però, bella, grazie del supporto, brother, grazie del supporto, e niente, ma anche per dire, hai tempi tipo midnight, oppure local zone, però sono un po' di anni fa, cioè, l'alvono un'alchimia assurda, ora come ora, c'è Ronde Art, hanno fatto un disco migliore, posso dirlo, posso dirlo, si può dire, si può dire, identità di Nerissima, identità di Nerissima, devo dire, questo è stato un album, è un album che invece, un pochettino, ha deluso, bella per il follo, Crodo, ah, bacioni, dai, Crodo, poi se vuoi dare un occhio alla tier list, e commentare un po' i brani, no, Crodo, ora no, reaction oggi è tier list, come da titolo, tier list degli album dell'anno, non riusciamo purtroppo a fare una reaction, magari in chiusura, però abbiamo ancora, un po' di album da, da, da selezionare, di cui discutere, non riusciamo, magari un giorno, scrivimi su Instagram, non sei obbligato a seguirmi, però se vuoi scrivimi, nel, nel chill, perché tanto, io raccolgo una serie di brani, che mi chiedono, magari quando sono off live, e mi scrivono, io li raccolgo tutti, e poi, quando ne un bel po', faccio serata, emergenti, nuove scoperte, in cui vi ascolto tutti, e poi tanto ti manderei, ti manderò un messaggio, il giorno che la farò, quindi, scrivimi pure là, brother, allora, cosa stavo dicendo, identità, è un disco, che un pochettino, mi ha deluso, cioè non è brutto, non fa schifo, è tutta questa roba, così, però un pochettino, mi ha lasciato un po' con la mare in bocca, perché comunque, a me è nerissima casa, quest'anno ha fatto, tutte figate, però, cioè non è brutto, però secondo me, i brani, non tu, cioè ci sono i brani fighi, però alcuni sono, un po' filler per me, perché semplicemente, non hittano, come magari altri, come prima, come altri usciti prima, tipo Montefuji, ma anche quella con Low Red, poi ci sono le hit, come Mama Freestyle, i primi due brani, adesso non mi ricordo le altre, però si, mi ha un po' lasciato con la mare in bocca, la cosa fantastica, sono state le produzioni di Free 2, eh, My Dog, vedi, non mi piace il ritornello, non mi piace il ritornello di My Dog 2, cioè di My Dog 2. ci sono 4-5 tracce, che trovo incredibili in identità, bellissime proprio, in nerissima piace a me, altre come sempre, skippabili, quindi, altro disco che doveva essere più asciutto, secondo me, c'è questa tendenza ora, ad allungare i dischi, e io invece vorrei robe più asciutte, cioè, però sì, in effetti, 14-15 brani, cioè, in realtà non sono neanche troppi, capito, eh, però capito, questi emergenti prima, ti facevano l'EP, capito, sì, ora gli album sono, cioè, per fare un album, capito, devi avere, sì, o fai una roba tipo umile, e che sei versatile, poi capito, nerissima non è più di tanto versatile, se ci pensi, esatto, cioè magari, roba tipo Mami Freestyle, sì, oppure, tipo Fondo di Verità, esatto, quella con il cuore del territorio, mi piaciuta molto, sì, e più che altro ho detto, bro, cazzo, perché metti Tony Boy di là, cioè, secondo me ci stava più in fondo di verità Tony Boy, però sì, quella roba non è fortissimo, nerissima, però poi ci stanno le hit, tipo Scuola Assassino, Vetto Frozen, però sta piacendo, sta piacendo molto, eh, lo so che sta piacendo, secondo me, ah, può fare robe molto più fighe, però, boh, io lo metto in cisto, io lo metto in cista, perché comunque non è brutto, però, poteva essere molto meglio, secondo me, non so tu, secondo te ci sta, oppure invalido, io no, io lo metterò in cista, perché è valido, ci sono dischi che hanno avuto, secondo me, qualità superiori, sono d'accordo, mi metto in cista, adesso, per due vero, ragazzi, per due vero, mmm, ma se vuoi dirmi il tuo, se vuoi dire la tua, io, io in realtà sono, devo dire, un disco, che non è, secondo me, mi ha dato, anche Identità, quando l'ho ascoltato, mi ha dato un po' la stessa roba, di per due vero, ovvero, non è brutto, né schifo, né trash, però, mi ha lasciato proprio indifferente, non mi ha fatto, l'unica terza, che poi mi ha dato disgusto, è stata goal, cioè che poi mi ha detto, bro, questa è una cacata, il tutto il resto, ho detto, boh, sì, ok, abbastanza noni, ma non mi dice niente, non è brutto, non è brutto, però, ok, ma io ti dico, che è un momento, tra i miei album dell'anno, eh no, ma ho visto molti, perché Sfera ha fatto una cosa, secondo me, di un'intelligenza esagerata, non è stata una cosa studiata, ma è stata una cosa di pancia, secondo me, che si è reso conto, che lui ha flexato, tutto quello che si poteva flexare, ha parlato delle cose, di soldi, di auto, di donne, in tutti i modi possibili, immaginabili, e si è messo un po' più a nudo, cosa che non aveva fatto, negli ultimi boh, sei anni, e il modo in cui l'ha fatto, l'ho apprezzato un botto, cioè, ci sono un paio di testi, che mi sono proprio arrivati, e invece, quando si è messo a fare le hit, le ha fatte in grazia di Dio, anzi, le ha fatte, fottutamente bene, per quanto mi riguarda, featuring super azzeccati, produzioni ottime, quindi, scelta molto razionale questa, non è un album, che mi fa innamorare, però razionalmente, ti dico che tra gli album, che ho ascoltato di più, e che alla prima reazione, mi ha dato più, più gas, ecco, di questo anno, ci sta, ci sta, ma più che altro ti volevo chiedere, cioè perché, l'ho letta sta roba molto, la roba intima, si è aperta un po' di più, cioè, ascoltando il disco, siccome avevo anche letto dei commenti del genere, però bro, ce lo fa in 3-4 brani, al massimo, cioè che si apre così veramente, e poi per il resto, l'ho trovato abbastanza, l'ho trovato abbastanza banalotto, poi nella scrittura, soprattutto i banger, soprattutto i banger, cioè Anna l'ha washato totale, sì vabbè, Anna lì l'ha devastato, questo è vero, poi vabbè, c'è quella con la Zesciva, che in realtà, secondo me è bruttina, cioè no bruttina no, però è un po', già sentita, non so come dire, già sentita fatta meglio, ti dico, considero, cioè quando ho valuto un disco, non considero la prestazione dell'artista, se ti devo dire, la prestazione di Sfera è basta, mi è piaciuta, ma non troppo, sì, penso che però, tutti i featuring, essendo secondo me, che erano nel disco di Sfera, che sapevano che erano nel disco di Sfera, hanno dato il 110%, cioè Anna ha fatto uno strofone, tranne Guè secondo me, gli hanno devastato Guè, Tedua l'ha carriato, Pacchi ha fatto uno strofone, Tony F ha fatto uno strofone, e via dicendo. Per il discorso che mi facevi tu, ora non mi ricordo in che traccia, ma c'è una roba in cui fa tutto un discorso sulla presenza di suo figlio, ma l'assenza di suo padre, quindi tra vita nuova e vita passata, non mi ricordo bene in che traccia, non mi ricordo bene in che termini lo faceva, ma che proprio mi ha dato i brividi. E poi anche fragile, poi c'è da dire che lui a volte cringe un po' con l'autotune, quindi si rimane un po' l'autotune del ritornello, però anche in fragile, secondo me, si è un po' messo a nudo, cosa che secondo me non aveva mai fatto. Esatto, infatti io dico, fragile è stata, cioè per me infatti il disco era partito bene, perché è partita fragile, inizialmente ho detto bro, cioè che cazzo fai con statue tune, era troppo sparato, però è stato il primo impatto, perché poi quando lo rifa dopo, dico ok, ci sto entrando di più, è una di quelle robe che ascoltandole, le capisci meglio, ti ci abitui, e poi correndo nel disco sono rimasto, cazzo alla fine fragile è una dei brani migliori, perché è quella anche dove ha osato, un pochettino no, ha voluto un po' sforare, un po' sgravare, però è stata una cosa che ho apprezzato, e poi mi ha lasciato l'amare in bocca, un po' l'indifferenza appunto, perché dicevo, cioè comunque era partito con del potenziale, ero aperto, anche è capitato da robe che magari non mi piacevano inizialmente, ma che potevano darmi, cioè magari col tempo avrei apprezzato, oppure avrei apprezzato il rischio, e invece è un cazzo, cioè per me, ripeto, l'highlight dell'album è l'attacco di Baby, Simba, cioè per me è quello, cioè fa tutto il disco, ti avrei detto Trouffon di Trouffon, però è palesamente preso dagli Iodi, cioè da Su Prince è palesamente ispirato agli Iliati, Iliati, Iliodi, come preferite chiamarlo, che tu non segui, immagino, però è lui, è lui che quest'anno con Poland, I took the walk to Poland, che ha portato quel vibrato così, che ha portato quel vibrato così, che ha portato quel vibrato così, l'ha fatto a modo suo, però all'inizio mi sembrava proprio palesemente copiato, e poi alla fine in realtà ci stava. Guarda, gioco l'ultima cosa, che sfera, che sfera comunque se non vuoi, è sempre lì, cioè mo, eh vabbè frate, a PIL, l'Azza è più in alto ora di sfera, per quanto mi riguarda, però comunque è sempre lì, cioè anche qui è uscito con questo disco, e il panico che doveva fare l'ha fatto. Beh per me Sirio, a me non mi era piaciuto, però c'erano già un paio di cose in più, che ho apprezzato, come mi ricordo, erano anche robe un pochino più sperimentali, sperimentali no, però diverse dal solito, anche tipo quella con Takagiya che è, tra di Sirio, adesso l'ho ascoltato due volte Sirio, ma poi non l'ho più ascoltato, non mi era piaciuto per niente. Io forse 200. Eh sì, lo so, però vedi, è una di quelle robe che dico, magari a me non piace, non apprezzo, però capisco se piace, invece per due è vero, per quello dico, secondo me la gente si è un po' accontentata, perché molte cose non le ho viste, e via. Comunque lo sparo in niente di che, sparo in niente di che. Adesso abbiamo Pizza Kebab volume 1, anche questo, effetto un pochino nostalgia col nome Pizza Kebab, però allo stesso, questo mi ha dato le stesse vibe del disco di Saltours, e chiede anche perché poi molte produzioni sono loro, però bro, un disco figo, non ti dico album dell'anno, però ho tre dischi più figli di quest'anno, perché sound freschissimi, poi io che seguo l'America, ha portato quel sound, un po' rage, un po', adesso poi se c'è un raggio, mi correggerà, ha portato un sound molto fresco, è stato un progetto proprio divertente, dove si sente che magari si è divertito, ha sperimentato, poi non si è chiuso su una roba, poi ha alternato bene, secondo me, i brani più trap virtual, ok ci sta, i brani più trap rage virtual, ha poi quelli più, quelli che ricordano i suoi vecchi brani, tipo Coco, oppure succo di latte di mucca, una roba del genere, anche quei brani più maccarenici, non so come dirli, più nordafricani, e anche quelli là erano fighi, erano proprio fatti bene, quindi secondo me, cazzo, un po' questo figo, bella per Gali, bella per Gali. Totalmente d'accordo, ben venga se torna di moda la trap fatta così, cioè veramente ben venga, citazione assolutamente da fare, paura di libero a Milano, top 10 brani dell'anno, mani bassissime, è molto parecchio, quello mi aveva stunnato all'inizio, perché era strano, poi è vero, riascoltandolo ti piglia di più, è incredibile, poi c'è Pyrex che torna a trappare così da nulla, ciao, Pyrex è quello che mi è piaciuto di meno, perché l'ho sentito proprio forza, ho sentito come appunto, ha fatto questa roba, non gli è andata, anche perché la gente gli ha tirato merda, però secondo me lui non si sente più, veramente così trap, però siccome la gente vuole quella roba là, lui ci prova, però si sente che non è più genuino, come un tempo, cioè siccome l'ha persa un po' quella roba là, mentre Tony è sempre rimasto real nella sua roba, per questo siccome suona bene, secondo me col tempo migliora, infatti non capisco i detrattori, cioè vai, che non gli è mai piaciuto, ok, però che magari è fan e dice, col tempo ha rotto il cazzo, boh, cioè, a me no sta migliorando, poi è Tony, cioè non mi ha, e niente, e quindi, e quindi niente, però si è il progetto molto figo, secondo me, io ho, il mio preferito, vabbè io ho in fissa con Selene, assolutamente, e poi, buonasera con Soul King, buonasera, cioè no, proprio un disco divertente, figo, presa bene, non è proprio un disco divertente, che si voglia, cioè, figlio di una voglia di fare musica figa, trap, trap, abbiamo poi Still Running di Prachi, anche così, te lo sparerei in molto figo, perché bro, progettone, prendiamo entrambe le robe, tra l'altro, che ce l'ho qua, running di Prachi, vabbè, molto figo, bombe, bombe di brani, l'unica cosa è che, no, me lo sono poi ascoltato più di tanto, durante l'anno, ho ascoltato quel periodo che è uscito, poi basta, e poi basta, ho ripreso più di tanto, durante l'anno, ma devo dire, anche il, 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 prova a prendermi mixtape, mi era piaciuto un botto, quando l'ho reactato, l'ho ascoltato un po', in quei giorni, settimane seguenti, ma poi non l'ho più ripreso, come magari un fortuna, che siamo vivi di Razer, in Todd ci ritorno sempre, quindi però, progetto fighissimo, c'è, prani come Superman, me versus the world, Silrunning, piacere Francesco, if you smiling, concordo, dal punto di vista sound, concordo pienamente, però, c'è una critica che ho fatto, perché poi ho, tra l'altro, ho inoltrato anche a loro, che si parla troppo di soldi, cioè, mi rimane troppo la parola soldi, guadagno, spendere, quel sapore lì, alla fine del disco mi rimane, ed è una cosa che è un po', in contrasto con la nuova Sardegna, ok? Quindi, quella è la critica che ho fatto, che non mi fa gridare al discone, però devo dire, da punto di vista sound, sì, i più smiling, Superman, cioè, tracce tutte freschissime, tutta roba, tutta roba fresca, tutta roba che mi piace, però quella roba dei testi, un po' sul, sul soldo, sul guadagno, sul, capito? Quello lì, mi stride un po', con l'immagine della nuova Sardegna. Ok, però adesso, io adesso non mi ricordo bene i testi, però, cioè, se non ricordo male, era un soldi, però più una, esatto, più una voglia di farli, più che di, flexare di averli, o sbaglio? Cioè, era proprio una roba, cazzo, voglio farcela, cioè, più fame, capito? Voglia fame, soldi sì, però, nel senso, voglio andare a app. Sì, ma rischi anche di passarmi, lo sto facendo, pensando di fare soldi, capito? Sì, voglio arricchirmi con sta roba, esatto, ok, ho capito quello che ti ho. Eh, quando poi c'è il progetto Nuova Sardegna, in realtà, nella mia visione personale, è una cosa, come posso dirti, è for the island, che lo si fa, capito? Sì, 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 scusate che ti faccio io. No, ma non è questione di ipocrisia, bro, è difficile da spiegare, cioè, nessuno di noi, no, ho capito di aver capito come che intendi, per farle, cioè, ci mancherebbe altro, il sistema economico mondiale è questo, poi, sono dei discorsi molto grandi, però, non dirmelo, cioè, non lo so, artisti che prendono i soldi, ultimamente, non mi piacciono, ci sta, quindi, quel sapore lì, mi stride anche un po', con Nova Sardegna, e quindi, ok, ci sta, ci sta, ho capito, ho capito, la tua critica. ci mancherebbe altro, cioè, vabbè, venga il cash nell'isola, no, non è quel discorso, è il, cioè, è comunque, la Nova Sardegna lo fa for the island, non so se mi stai capendo, è come se lo facessi, sì, c'è che i soldi sono una conseguenza, della, e invece là sembra che, non dico voglio arricchirmi, però cazzo voglio farcela, nel senso, più che voglio farcela a livello musicale, voglio farcela nel senso, voglio, cosa ne so, riuscire a entrare nell'industria, che un po' si potrebbe puzzare, bravo, cioè, ho capito quello che intende, se il concept del disco è still running, quindi stiamo correndo, ok, l'atleta, ok, anche il campione olimpico, che poi diventa milionario, quando corre, ok, non pensa a vincere il premio, cioè, tipo Sinner, ti faccio un esempio, Sinner, quando gioca un torneo, una finale, pensa a dover battere Djokovic, pensa a vincere la partita, non a che il Montepremi è di 3 milioni di euro, poi, per carità, ne sarà contentissimo, ma lui gioca per vincere la partita, quindi, da still running, quindi da la corsa, mi aspetto che, si corra per vincere la gara, adesso, bravo, mi stavo dimenticando un disco, però, mi stavo dimenticando un disco, mh, cazzo, me lo siamo inviati anche io, non armi, eh, sì, eh, ok, lo aggiungiamo al volo, questo qua è l'ultimo, dovrebbe essere, ok, ci siamo, ok, ok, però capisco quello che intendi, quello che intendi, ora, 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 questo è il mio campo, tu l'hai ascoltato questo progetto, non lo so, Tonino? Eh, sì, uno dei tre Tony? Uno dei, esatto, Tony, 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 certo che l'hai ascoltato, un curioso, dai, se vuoi dire prima tu, curioso, però, sai quella cosa bella di Tony2Milli? Che io, quando era uscito, ho detto, questo qui si spacca, ma questo qui è un meme, questo qui, cioè, avevo, mi piaceva un bottom, avevo la paura, che tipo, durasse, capito, sei mesi, invece ha un modo di, 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 di innovarsi, di, di, di trovare sempre, anche il meme nuovo, anche la cosa nuova, che, che mi fa dire, cazzo quanto è forte, cioè, ma poi, secondo me lui, proprio ha delle possibilità, di, di variare, di sperimentare, di, di allargare, il, il, il suo, il suo bacino melodico, chiamiamolo così, che, gli fanno fare carriera, cioè, Tony2Milli, secondo me, è uno di quelli, che può fare un bel salto, eh, per me, Tony2Milli, è proprio, top 5, top 10 artisti, perché, bro, il bro sa craftare musica, poi, vabbè, ha un botto di reference, ha un botto di roba americana, però, sì, è meme, alcune cose che dice, fanno ridere, però, bro, la musica è genuinamente figa, il bro ha proprio visione artistica, ha la visione artistica, riesce, a farti delle produzioni super, top 1 o no, però top 5 sì, top 5 sì, attualmente, ma proprio, poi ti parlo, cioè, proprio di creare progetti, cioè, ha capito, anche l'immaginario che si crea, eh, parti, capito, con slam musica, poi c'ha il vero album, che comunque, cioè, non so come dire, riesce a cultizzare la sua roba, cioè, a renderla cult, bro, per me il vero album, veramente, ogni top, infatti, ero partito, dopo aver ascoltato così ghiacciato Tony, ho detto, questo è il suo migliore, però poi, tornando sul vero album, dico, no, è il vero album, è il suo migliore, è troppo hard, è difficile spiegare la parola, Tony2Million, è difficile, molto difficile, perché è un viaggio, c'è proprio un viaggio, sì, 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 esatto, è come, perché sto pensando a, a dei parallelismi, però, però sì, il bro riesce proprio a creare, a rendere cult, ogni, i progetti che fa, perché sì, ti fa ridere tutto, però le produzioni si spaccano di brutto, c'è un immaginario, anche a livello grafico, estetico, unico, tutto suo, e niente, poi, cioè, i brani sono proprio fighi, bro, First Day in Pussy, ok, che fa ridere, però, però, il bro ti fa un ritornello del genere, bro, cioè, wash a tutti i ritornellai d'Italia, come dire, è proprio, è proprio cult, è proprio cult sta roba, no, io lo metto tra gli album dell'anno, non album dell'anno, però tra, i progetti migliori usciti quest'anno, eh, mani bassi, cioè, perché, bro, suona troppo bene, suona troppo bene, poi, devo dire, non ci sono, a un certo punto, non ci sono più tornato più di tanto, perché andavo fisso in il vero album, però, bro, è, è proprio figo, è proprio figo, bella Leo, come stai bro, abbiamo quasi finito, abbiamo quasi finito, adesso, non so ragazzi, poi ditemi voi in chat, a parte, ne ha detti un po' Lucio, però noi li abbiamo sentiti molti, se ce ne stiamo dimenticando altri, ditacelo, e così li aggiungiamo, e poi, un'altra cosa di Torino e Tomilli, col fatto che pubblica così tanto, cioè, vaneggiarsela così tanto ogni volta, trovare cose nuove ogni volta, che tengono quello, non è semplice, cioè, a livello di scrittura, non è semplice, a te che piacciono, vai a vederti il video, che ha fatto con Canova, l'ho visto, l'ho visto, bellissimo, però, quando fa, come vuoi il violino, più brutto possibile, sì, a parte quello, sì, però, il bro, quando poi, cioè, si sente che parlano tra produttori, è arrivato lì, bro, lui subito ha descritto il sound, cioè, quindi si sa che il bro, il bro è, il bro ha mentalità da musica, proprio, perché era già subito, dentro, quindi, wow, 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 quello 9 Geni Tights, io non l'ho sentito neanche, il dolce silenzio di Freeman, c'è, mi pare, cos'è questo qua, però, io non l'ho sentito, Marco l'ha messo in flop, poi io non sono grande fan di me, ma è mostro, mi sa, c'era, ma l'abbiamo messo in non ascoltato, Taxi B, e poi non l'ho sentito, nel caso mostro, Taxi B, anche questo, non album dell'anno, però bro, è uno dei progetti più, stanno, anche qua, rispetto totale per Taxi, perché anche lui, ha preso la sua strada, ha provato un po' di generi, l'ha fatto bene, cioè, passa dalla trap violenta, al metalcore, allo scrimo, a bro, alla cantata, come si chiama, non so, in Italia, tipo la ballata, come si chiama il terzo brano, che sembra tipo una ballata, il terzo brano non è, secondo terzo brano, che comunque sembra quelle robe tipo, tipo a polca, no, che è fallito, un po' quella roba che faceva, cioè capito, quello stile là, veramente, però, poi, vedete, è boom bap, ha fatto un brano boom bap, che spacca di brutto, cosa faresti per un like, una roba a mezza la, XXXT, veramente, uno dei dischi più fighi di quest'anno, no, ma anche Chiara F, Chiara F, sì, è figa, l'unica cosa che mi dispiace, è che nel disco non abbia messo, uno dei singoli più fighi, che era Mezzo Rage, che era Hype forse, no, Hype, sì, bello Hype, era Rage, sì, Hype, esatto, eh, niente, bello, esatto, ci ha messo l'hard style anche, esatto, bro, no, veramente uno dei dischi più fighi, infatti ne volevo parlare, non ho mai avuto tempo, una delle robe più, che mi hanno fatto più godere quest'anno, ma poi se ne è fottuto di tutto di tutti, ha fatto quello che voleva lui, senza un compromesso, cioè a costo di rimanere lì, un po' nell'underground, nel, no, però sto guardando anche i numeri, è andato bene, se vai perché poi c'ha, coso, Mr Bean, che è quella, eh, perché Mai dice Mr Bean, che è un po' attirato, quella con, con Sapo, che purtroppo è quella che a me piace, eh sì, che purtroppo a me però non è più affitto, anche se Xpistols, bro, cioè, Xpistols fighissima, bro, esagerato, Xpistols fighissima, lo so, non ci credo che è pazzo così, dai, 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 allora, non so ragazzi, vi saluto,